benvenuti dipartimento di management io vi porto i saluti in realtà della direttrice del dipartimento la professoressa Culasso che oggi ha un impegno e non poteva essere presente ma siccome a breve sarò io il direttore di dipartimento dal primo di ottobre eh mi ha delegata a questa gradita occasione eh credo che questo questo corso questo ciclo di incontri sia parlavamo oggi con il professor Grandinetti un ottimo esempio di quella che noi chiamiamo la terza missione dell'università l'università fa didattica naturalmente fa ricerca e poi fa terza missione noi indichiamo come terza missione tutta tutte le interazioni che l'università ha con il territorio con la cittadinanza con le istituzioni di vario genere e questa penso che sia un'occasione ottimale in cui l'università eh si è posta come un po' come organizzatore come collettore di una sorta di grande tavolo di lavoro su un tema molto interessante fondamentale direi internazionalizzazione vista da varie prospettive eh manageriali di mercato e eh tributarie naturalmente nelle scelte di localizzazione tra paesi e territori la variabile la variabile tributaria è fondamentale non sono io qui a doverlo dire e sottolineare perché lo sapete tutti molto meglio di me quindi un tema fondamentale per il nostro sistema paese per le imprese e io sono più che eh onorata che questa iniziativa eh si svolga qui nei nostri locali e un po' con la l'organizzazione e la supervisione del nostro dipartimento di management con l'occasione visto che siamo in questa in questo questo questi locali oggi eh c'è in contemporanea purtroppo parziale con questo con questo evento un momento di dedicato alla storia di questo edificio dei poveri vecchi ehm che ha una storia particolare ehm e interessante l'evento eh finisce alle sei alle diciotto ma poi c'è una mostra che è aperta e un aperitivo quindi se avete voglia finito finito questo incontro e avete ancora tempo potete scendere al piano meno uno suonare e lì si può usufruire di questa di questo evento e di questa di questa mostra interessante e eh di un momento conviviale quindi io non voglio rubare tempo ai lavori e quindi lascio la parola al dottora Svisio e grazie di essere qui. Grazie Paola. Buonasera a tutti. Mi siedo solo per vieni Fabio che almeno facciamo le cose di conto. Devo dire che c'era una cosa che diceva il mio predecessore nostro amico di tutti voi Aldo Milanese che parlando ovviamente sempre in Piemontese diceva i saluti sono una rottura male fateli facciamoli insieme che così si si risolve. Poi devo dire invece la professoressa di Vincentis eh ci si lamenta sempre di essere sabaudi perché non facciamo cosa invece il direttore vi invitiamo agli aperitivi e e alle mostre quindi è una cosa bella. Eh mi permetto di ringraziare tutti e di salutare tanti amici che ci sono oggi in sala eh ricordando che il dipartimento di management è intitolato Walter Cantino che è stato un amico di tutti è stato una persona che ha sempre cercato di creare come Aldo rete e rapporti e quindi il fatto di essere qui oggi in un eh nella nel dipartimento che in qualche modo a lui è dedicato è un elemento di merito. Siccome è importante essere qui oggi tutti insieme eh e proprio per questo ho voluto che con eh Fabio Cigno anche presidente dell'ordine di Cuneo eh con ehm Paola De Vincentis che ripeto tra poco sarà eh direttore del dipartimento ma soprattutto con la quale insieme a Lorella la nostra direttrice che come sempre è preziosa e importantissima e che ringrazio a nome di tutti eh si cerchino di fare delle cose insieme ehm con la professione De Vincenti si sta lavorando anche sul fatto che i giovani eh che entrano in un'università capiscano che la nostra professione è una professione interessante che ha degli sbocchi importanti e ehm questi sbocchi spesso sono quelli che piacciono di più ai nostri ragazzi perché gli adempimenti, le dichiarazioni, i bilanci vengono visti come una commodity mentre spesso eh le attività come l'internazionalizzazione eh la due tre uno l'ISG e quant'altro possono essere argomenti che tocchino un po' più il cuore dei nostri ragazzi e permettono loro di capire che c'è una possibilità anche nella professione e di questo ringrazio Paola perché quello che stiamo cercando di fare insieme all'università è proprio quello di divulgare in qualche modo in qualche modo il verbo. Eh mi fa anche piacere di vedere qui Giovanni parente al quale mi lega purtroppo un'amicizia troppo lunga eh e eh con il presidente dell'associazione ehm diciamo dei rapporti con la AI-Check che è una è un'opportunità importante mentre mi sono permesso di dire ad Andrea Barabino che è il presidente dell'osservatore internazionale dell'Odc di Torino costituito grazie al suo a sua volontà e anche la sua perseveranza e questo eh prodotto è sicuramente anche frutto del suo lavoro e lo ringrazio abbiamo dimenticato di mettere il marchio noi siamo alle volte in questo molto sabaudi e non riusciamo magari a vendere troppo il nostro prodotto eh però mi sembra anche che gli argomenti sia di questa sia delle futuri incontri siano assolutamente interessanti e rilevanti e rendano veramente merito a questa professione che deve guardare avanti al futuro eh noi siamo professionisti molto vicini all'impresa e l'internazionalizzazione e la crescita delle imprese oggi è una cosa fondamentale come anche la capacità di mettersi insieme eh e fare sì che le aziende eh una volta si diceva devono essere il numero disperi inferiore a tre è un grandissimo errore invece si può insieme creare le occasioni per crescere e migliorare e il mondo oggi il Piemonte è troppo piccolo ma l'Italia è anche troppo piccola l'internazionalizzazione delle imprese è assolutamente fondamentale. Scusate grazie del tempo che ho ehm rubato ringrazio ancora tutti gli organizzatori e ovviamente passo la parola al mio amico e collega Fabio Ciglia. Grazie presidente Asvisio e buongiorno a tutti mi associo anch'io ai ringraziamenti ovviamente non elenco nuovamente tutte le persone che si sono impegnate con frutti positivi grazie eh nell'organizzazione di questo corso eh presidente Asvisio ha già detto praticamente tutto tema tema però molto importante e sicuramente di grande attenzione anche per la provincia di Cuneo che provincia di Cuneo è evocata la prossimità in particolare con la Francia ma sicuramente la provincia di Cuneo è anche culla di sviluppo di imprese le cosiddette multinazionali bonsai che sempre più spesso si affacciano all'estero e esperienza sul territorio sempre più spesso il commercialista è chiamato a fare da regista quindi coordinare tutti i passaggi necessari e collettare tutti i professionisti necessari per creare questi processi di internazionalizzazione molto interessante questa esperienza di un corso che mette insieme le competenze delle università le competenze delle imprese e le competenze dei colleghi e delle colleghe che si avvicineranno in queste giornate io ringrazio ringrazio in particolare collega Andrea Barabino che ho avuto l'opportunità di conoscere e gli passo la parola per l'inizio del corso grazie grazie Fabio ma adesso possiamo parlare Giovanni Parente presidente dell'Aice associazione per l'internazionalizzazione dei commercialisti anche il nome guarda anche il nome grazie grazie presidente buon pomeriggio eh grazie eh a tutti gli intervenuti grazie eh all'amico Andrea che eh mai sono eh quasi due decenni che ci conosciamo e che eh ci occupiamo appunto di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese un saluto e un ringraziamento all'ordine eh di Torino e per esso al presidente Luco Asvisio e all'università che oggi ci ospita l'internazionalizzazione delle imprese eh da dove nasce eh l'idea? L'idea nasce da una commissione che fondammo a livello di quando io ero consigliere nazionale all'interno del consiglio nazionale e che appunto a differenza delle precedenti attività che si svolgevano a livello internazionale decidemmo di occuparci con una speciale commissione proprio di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese perché capimmo in quel periodo era il duemiladodici duemilatredici che i tempi stavano cambiando che le imprese andavano sempre più verso i mercati esteri che c'era bisogno di far capire ai colleghi come diceva Luca le opportunità che potevano nascere da questa attività da questa branca della nostra professione e insieme a un gruppo di amici che parecchi oggi sono qui eh vedo Roberto vedo eh dopo magari gli altri eh saranno relatori anche in questa giornata organizziamo eh dei road show in tutta Italia ordine per ordine proprio per far capire l'importanza dell'internazionalizzazione poi organizziamo delle missioni all'estere che ancora oggi portiamo avanti attività che portiamo ancora avanti oggi per far sì che i colleghi possano toccare con mano quelli che sono le abitudini quelli che sono gli usi quelli che sono i costumi quello che è il sistema paese del appunto del paese dove noi andiamo con le nostre missioni l'anno scorso abbiamo fatto Brasile e Argentina e Malta e Lisbona eh Malta l'abbiamo fatto due anni fa eh quest'anno abbiamo fatto Praga e a ottobre faremo la Malesia l'anno prossimo già è in programma il Giappone perché c'è l'Expo in Giappone quindi ci regheremo in Giappone questo è un poco in sintesi quello che è l'attività di I-Check oltre appunto a questa nuova attività che abbiamo messo in campo quest'anno che è quella della formazione un pochino più alta un pochino più specialistica fatta insieme appunto alle università fatta con i colleghi proprio per toccare tutti quei punti che possono essere di eh indirizzo a quella che è la materia e che i colleghi che partecipano a questi punti a questi incontri possono arricchire le loro competenze in materia di internazionalizzazione ieri sono stato a insieme al collega Corbello presidente della commissione nazionale siamo stati a Vicenza dove stiamo portando avanti un altro corso formato in modo un po' diverso da questo che c'è stata proprio riguarda il management del dell'internazionalizzazione e è stata fatta una prima parte con la SDAB Occoni cinque lezioni e quattro invece verranno fatte da nostri colleghi e toccheranno le città di Vicenza ieri di Caserta il diciotto Bologna il ventiquattro e Cagliari il trenta di settembre ecco dicevo noi con questi corsi questo quello eh fatto con la SDAB e altri che stiamo programmando vogliamo far sì che i nostri colleghi acquisiscono come dicevo prima quante più competenze possibile in ambito di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese non mi voglio dilungare forse già mi sono dilungato abbastanza ringrazio di nuovo Andrea per l'invito e gli cedo la parola in qualità di coordinatore grazie a te Giovanni per essere venuto per essere intervenuto allora introduzione al corso molto brevemente anzitutto ringrazio anch'io per il supporto all'organizzazione i promotori che sono il consiglio nazionale gli ordini dei commercialisti ed esperti contabili di Torino e Cuneo il dipartimento di management Walter Cantino dell'Università di Torino l'AICEC associazione per l'internazionalizzazione dei commercialisti e la fondazione piccati milanese questo corso il cui programma è stato elaborato inizialmente dalla commissione internazionalizzazione dei professionisti del consiglio nazionale e in particolare dal presidente Alberto Perani su impulso dell'osservatorio del consiglio nazionale coordinato da collega Michele Lopuratolo e dell'AICEC è stato da noi recepito ed adattato alla realtà torinese in stretta collaborazione con l'università con il professor Mario Grandinetti che è qua e con il professor Giovanni Rolle che è il coordinatore scientifico del nostro osservatorio internazionale dell'ordine di Torino il tema dell'internazionalizzazione delle imprese viene per la prima volta a Torino affrontato da tutte le diverse angolazioni di competenza della nostra professione la consulenza per la pianificazione strategica le fasi del processo di internazionalizzazione funziona meglio le fasi del processo di internazionalizzazione e la figura del temporary export manager gli aspetti giuridici e la scelta degli strumenti societari le problematiche riguardanti la residenza delle persone fisiche e giuridiche la gestione del personale distaccato in trasferta la gestione del credito e le opportunità di finanziamento faremo anche un cenno sulla finanza islamica la contratualistica e quindi gli aspetti fiscali con imposte dirette imposte indirette e doganali i primi cinque incontri si svolgeranno qui all'università sempre alle 15 come da calendario che credo che tutti abbiate a disposizione mentre il sesto e ultimo incontro si terrà presso la sede del nostro ordine in concomitanza con l'apertura del congresso annuale dell'AMA arc mediterranen des auditeurs da cui fanno parte gli ordini che si affacciano sul mediterraneo in italia francia e spagna naturalmente il corso è accreditato per la nostra formazione continua e chi parteciperà a almeno cinque su sei eventi avrà una pergamena a ricordo passo ora la parola ai relatori di oggi i colleghi francesco corbello proberto corciulo e maurizio tomalino che sono dei veri fuori classe nel nella nostra categoria e li ringrazio anticipatamente per la disponibilità e per il lavoro svolto per noi grazie allora salve buon pomeriggio a tutti naturalmente anche da parte mia è doveroso quantomeno ringraziare in maniera molto veloce sia all'ordine i dottori commercialisti degli esperti contabili di Torino e soprattutto il collega Andrea il quale ha voluto fortemente eh questo corso Andrea è componente della commissione internazionalizzazione delle imprese presso il consiglio nazionale che mi onoro eh di coordinare. Eh detto ciò il il tema che mi è stato assegnato che appunto quello dei modelli di business per l'internazionalizzazione e le reti di impresa come modelli organizzativi per l'internazionalizzazione nonché il nonché esistori sul business aziendale naturalmente richiederebbe eh tanto tempo e dunque proprio per questo eh mi sforzerò diciamo di essere esaustivo eh seppure mantenendo i tempi ristretti. Ciò premesso occorre dire che eh eh la strategia dell'internazionalizzazione delle imprese a mio avviso è una delle scelte più complesse che può eh adottare un'impresa. È difficile atteso che ehm la diversità dei contesti internazionali, il continuo cambiamento dei contesti competitivi oggi impongono alle imprese anche quelle più piccole di essere presente sui mercati internazionali. E le difficoltà di un ingresso sui mercati internazionali è dovuto innanzitutto a mio avviso su quella che viene definita come eh la liability of foreigners cioè quindi quella responsabilità e soprattutto quegli oneri che gli stranieri che le imprese straniere hanno quando vanno sul mercato internazionale. spesso a causa eh naturalmente siamo così come quando un'impresa straniera viene in Italia naturalmente non essere di quel paese non aver essere di quel contesto soprattutto anche relazionale eh e il mancato riconoscimento su quel mercato naturalmente comporta spesso la necessità che i tempi degli investimenti, i tempi di avvio delle iniziative eh si allungano di parecchio. E comunque il eh il processo di internazionalizzazione non è un processo che si esaurisce in poco tempo. Anzi è un processo che acquista valore man mano che l'impresa che l'impresa cresce su quel mercato. E dunque è un percorso che aggiunge valore all'impresa nel tempo. All'inizio si può basare naturalmente sulla base di eh competenze che l'impresa già possiede al proprio interno. competenze che man mano vanno integrate con il eh con il contesto competitivo, relazionale, di risorse umane, di mercato che è presente appunto nel paese nel quale l'impresa eh ha tirato l'attenzione. Le grandi imprese naturalmente quando vanno sui mercati estri eh diciamo hanno un percorso molto più agevolato atteso che hanno eh risorse eh competenze che riescono appunto a supportare meglio questo loro ingresso nel mercato. Però partiamo da una considerazione oggi come ho detto prima anche le piccole e medie imprese per essere competitive sullo scenario globale devono rivolgersi ai mercati internazionali. E ehm è una strategia diciamo per le piccole e medie imprese che diventa ancora più difficile diventa un'impresa ancora più importante e laddove il la figura del dottore commercialista, la figura del professionista naturalmente diventa determinante. Tutte le imprese sono nostre clienti, su queste siamo d'accordo. L'ulteriore problema è che spesso noi non riusciamo a rivendicare questo ruolo di consulente per le imprese nei contesti internazionali. Pensiamo che sappiamo tutti che il novantasette per cento delle imprese sono piccole e medie imprese. Eh il novantasette per cento delle imprese eh producono quei veri prodotti del del made in Italy e dunque anche per affinché la nostra professione svolga quel eh un ruolo sociale che che ci ha attribuito noi dobbiamo essere eh molto diciamo sul pezzo al fine di consentire che queste imprese che producono a volte il vero made in Italy possono andare sui mercati internazionali. Pensiamo che solo il mercato dell'export in Italia vale circa un terzo del PIL circa 670 miliardi. Si affianca a questo mettiamo anche la presenza internazionale delle nostre imprese dunque non il prodotto interno lordo che è prodotto sulle esportazioni ma quella ricchezza che arriva sempre in Italia vediamo quanto è fondamentale e quanto è importante per l'economia del nostro paese avere eh delle imprese che siano presenti sui mercati internazionali. E eh in questo contesto eh la consulenza riveste un ruolo eh importantissimo. Già nel duemila quindici la commissione europea diceva che eh le piccole e medie imprese europee hanno bisogno dei consulenti hanno nei propri consulenti eh diciamo il 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 primo avamposto per andare nel mercato e a mio avviso noi commercialisti dobbiamo rivendicare questo ruolo. Con la base della mia esperienza giusto una una piccola informazione di internazionalizzazione da circa venticinque anni e eh so io sono piccolo come eh studio come professionista e però come strategia mi sono concentrato sul mercato degli Emirati Rebbiuniti dove oggi rivesto il ruolo di partner strategico del governo di Dubai per l'attrazione degli investimenti esteri eh sono partner di DMCC che è la prima free zone e ho stretto anche una serie di collaborazioni e naturalmente non essendo essendo impossibilitato a trascorrere tutto i trecentosessantacinque giorni dell'anno in quel paese con dei colleghi stranieri. Dunque da dicendo queste parole dove voglio mirare? Voglio mirare a dire che eh innanzitutto per parlare di internazionalizzazione mi sono dovuto internazionalizzare prima io cioè ho dovuto acquistare io quella mentalità eh eh che mi permetta di collocare su con le imprese e per essere presenti sui mercati internazionali. Certo lo diciamo prima tra di noi eh noi commercialisti oggi eh purtroppo soffriamo di un difetto che eh è un difetto italiano e che è quello dell'aggregazione. Noi a mio avviso dovremmo essere molto più aggregati con specializzazioni nei diversi mercati. E ehm diciamo quindi eh tale e vi è anche un altro problematico che appunto questa mancanza di specializzazione spesso nei nostri colleghi ehm porta le imprese e a volte devo dire anche dei colleghi di entrare sui mercati internazionali eh con un atteggiamento eh diciamo che qualcuno ha definito anche un po' naif cioè eh senza valutare il il paese target senza valutare quali sono le condizioni di quel paese ma semplicemente rivolgendosi a me o qualche altro collega dicendo io ho questo prodotto vendo questo pacchetto eh se conosci qualcuno aiutamelo a vendere e naturalmente il nel novanta nel novantanove per cento dei casi questo approccio è sbagliato non riesce oppure si anche riesce riesce male. Come dicevamo prima invece il processo di internazionalizzazione indipendentemente anche dalle dimensioni delle imprese è un processo che è molto complesso impegnativo e per affrontarlo occorre valutare attentamente ogni passo e cercare di avere un'ampia conoscenza del contesto nel quale l'impresa si muove ed è dunque soprattutto una questione di strategia che deve essere ehm attentamente ragionata e valutata. Sulla base della mia esperienza i quattro elementi principali di questa strategia di successo devono essere degli obiettivi che devono essere semplici, coerenti ma soprattutto come dicevo all'inizio di medio e lungo termine. Qui deve essere una profonda comprensione dell'ambiente competitivo nel quale il nostro cliente nel quale l'impresa si andrà a calare. Qui deve essere una valutazione attenta e obiettiva delle risorse che ci sono che sono necessarie. Io dico sempre agli imprenditori che si rivolgono da me negli Emirati Arabi Uniti ma ritengo che il collega Corciulo e anche Maurizio Tomalino che hanno esperienze su altri mercati eh possono dire che il break-even non si raggiunge prima di tre cinque anni. Quindi non solo hai necessità di avere risorse per fare gli investimenti ma poi deve avere anche delle risorse per portare avanti questi investimenti. E se pensiamo non stiamo dicendo nulla di nuovo atteso che questi sono gli stessi concetti che noi poi assumiamo quando facciamo un piano industriale, quando facciamo un business plan a un'impresa italiana. E dunque la migliore strategia tra l'altro eh è di scarsa utilità se non ha un' implementazione che sia efficace. E il business model dell'aziendale naturalmente deve essere calato non in maniera generica ma full eh sulle caratteristiche specifiche del mercato di destinazione. E naturalmente per fare questo l'impresa deve valutare tutta una serie di eh di scenari prima di entrare in quei mercati. Naturalmente deve valutare quali sono i trend tecnologici di quel mercato, i trend economici e macroeconomici di quel di quel mercato come il prodotto interno lordo, la produzione industriale, i salari, l'occupazione, gli investimenti, i fattori industriali che possono essere appunto legati ai diversi tipi di operatori di mercato, la domanda di quel prodotto e di quel mercato. E eh e dunque la strategia è eh è fondamentale e su questo la strategia deve essere utilizzata appunto per dare all'imprenditore una visione chiara del mercato e ripeto noi commercialisti su questi a mio avviso abbiamo competenze aziendali di bilancio tributare altre che ci consentono di ricoprire questo ruolo. E dunque qui entra in gioco la funzione del consulente e eh con la commissione con Andrea eh Barabino e tutti gli altri colleghi tanto è vero che abbiamo iniziato un percorso che al nostro avviso è la nuova figura del commercialista. Noi siamo sempre stati molto specializzati sulla parte tributaria. Invece noi eh dobbiamo sicuramente che è una parte importantissima ma è una componente del processo di internazionalizzazione. Quindi nell'ambito delle attività della commissione abbiamo un promosso un 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 corso di project management dei processi di internazionalizzazione in collaborazione con la SDA Bocconi. Abbiamo fatto i primi eh le prime cinque lezioni adesso eh stiamo organizzando e stiamo cercando di portare avanti diciamo un corso di secondo livello. Appunto perché nel progetto nell'ambito del processo di internazionalizzazione dobbiamo supportare le imprese sia nella pianificazione strategica nell'analisi dei mercati nella gestione del progetto nell'adattamento del prodotto e del servizio eh supportare le imprese quando entrano in quel mercato nella gestione delle operazioni logistiche nella conformità legale e fiscale dunque assicurarsi che tutte le operazioni siano conformi alla alle leggi nazionali e internazionali la gestione delle risorse umane internazionali il marketing territoriale il monitoraggio e la valutazione dei progetti. In queste parole ho cercato di racchiudere quali devono essere tutti i diversi aspetti che dobbiamo valutare quando assistiamo un'impresa per entrare eh sui mercati internazionali. Atteso che ehm l'internazionalizzazione è una è un è un processo che investe molto la cultura aziendale è un processo che deve vedere il professionista a fianco all'imprenditore e l'imprenditore spesso soprattutto come dicevamo per le PMI deve avere fiducia nel proprio consulente il quale appunto deve rivestire eh il ruolo di project manager sulla base di quello che abbiamo spesso condiviso in commissione e dunque supportare l'impresa nel nell'ambito del processo di internazionalizzazione. E eh Andrea andando anche al discorso del business plan io quali sono le le domande che rivolgo ai miei clienti quando vengono da me? La prima scelta è perché ti vuoi internazionalizzare? Cioè perché quali sono le ragioni sulla base delle quali l'impresa dovrebbe o potrebbe intraprendere un percorso di internazionalizzazione? E le risposte possono essere molteplici appunto quello di individuare nuovi mercati, efficientare il processo produttivo, avere ehm effettuare una ricerca appunto di conoscenza e competenze complementare all'impresa al fine di incrementare appunto il processo di innovazione. Ulteriore domanda è dove internazionalizzare? È la seconda scelta questa che un'impresa dovrebbe adottare nell'ambito del processo di internazionalizzazione dunque è relativa alla completa e all'esatta individuazione del paese o dell'area eh geografica target e naturalmente la scelta di del dove andare a internazionalizzare è strettamente legata alla domanda che gli ho fatto prima cioè della ragione per la quale si vuole andare internazionalizzata ma va la stessa ponderata anche rispetto a ad altri indicatori oggettivi che sono appunto le risorse che si trovano nel paese di di destinazione la forza lavoro che viene in quel paese la specializzazione e e dunque vi è interdipendenza tra la prima e la seconda domanda che li pongo e la terza invece eh decisione di un di un processo di internazionalizzazione è relativa alla modalità di ingresso di quel mercato su questo naturalmente ce ne parlerà in maniera più compiuta il il collega corciulo però le modalità di ingresso naturalmente si possono distinguere a seconda del loro grado di commitment ovvero secondo il grado di investimento che è richiesto per poter entrare in quel mercato si può andare dalle da dalle modalità che hanno un basso costo quale può essere quella appunto dell'esportazione tradizionale verso in cui quei mercati fino poi arrivare all'apice a quella che è più complessa e sicuramente richiede più investimenti eh ma da anche maggiore indipendenza all'impresa straniera c'è quella dell'investimento diretto estero e gli investimenti diretti esteri ancora possiamo andarli a dividere in investimenti di logica e brownfield quindi mediante acquisizioni o partnership oppure eh possiamo eh trovare degli investimenti greenfield quindi quando l'impresa fondamentalmente arriva su quel mercato e fa esclusivamente riferimento eh alle proprie risorse e dunque vuole avere una propria sede una propria indipendenza. Vi è anche un'alternativa una 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 soluzione un poco più mirata che appunto eh è la eh costruzione di joint venture con imprese locali e eh le diverse logiche appunto come dicevamo attraverso le quali un'impresa può andare nel mercato ma su questo dopo lascio la parola all'orbetto e appunto quella possa andare dal basso all'elevato commitment. Naturalmente in queste ci sono varie strategie per entrare in quel mercato. Sicuramente sicuramente però quelle a basso costo sono logiche eh essenzialmente semplice come quelle dell'export no che però richiedono un basso investimento da parte dell'ampia e dell'impresa però spesso non possono rappresentare anche un tappo alla crescita di quell'azienda. Atteso che tutta una serie di informazioni relative al mercato nel quale l'impresa sta andando non pervengono direttamente all'impresa ma appunto sono mediate mediante terzi soggetti che possono essere distributori locali. Invece quando l'impresa appunto fa degli investimenti diretti esteri la eh la presenza su quel mercato non fa altro che garantire un elevato flusso di informazioni che la stessa impresa poi può man mano assorbire e portare all'interno nell'ambito anche dell'attuazione e del continuo monitoraggio che quell'investimento deve avere. Un'altra scelta è cosa devo andare a internazionalizzare. La scelta naturalmente questa scelta di cosa andare a internazionalizzare e eh è dettata da diversi fattori. In genere noi pensiamo tutte che le imprese si vogliono internazionalizzare per andare a vendere di più sui mercati internazionali ed invece eh gli obiettivi possono essere sicuramente diversi possono essere dei eh trovare nuovi mercati di approvvigionamento o oppure un del delle nuove risorse al fine al fine di andare a produrre ad un minor costo ed ancora c'è qualcuno che parla anche di internazionalizzazione dei capitali dunque deve essere un'impresa che deve stare sul mercato estero al fine anche di approvvigionarmi di capitali che mi possono aiutare invece a crescere nel mio mercato domestico mediante la una mia presenza eh in un mercato estero abbastanza favorevole dunque come vediamo naturalmente vi sono tutta una serie di interdipendenze che eh che soprattutto eh danno all'impresa come dicevo prima un aspetto culturale ma un aspetto anche dimensionale soprattutto eh di dimensioni maggiori importanti anche perché poi alla fine cosa andare a internazionalizzare dove andare a internazionalizzare sono scelte che devono essere molto attente facciamo l'esempio della pandemia all'improvviso eh se hai una una produzione in Italia un altro stabilimento degli Stati Uniti e un altro in Asia nel momento in cui nel momento della pandemia si interrompe uno di questi processi oppure ci sono le 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 barriere chiuse naturalmente l'impresa può andare in crisi perché non riesce più ad andarsi ad approvvigionare quindi eh anche il l'individuazione del paese target cosa andare a internazionalizzare come andare a internazionalizzare con quello che ci ha insegnato la pandemia sono ehm sicuramente dei passaggi che vanno valutati molto attentamente chiedo scusa se vado troppo veloce se devo vorrei cercare di rimanere un attimo nei tempi visto le cose che ci sono da dire la quinta scelta invece del processo di internazionalizzazione come dicevamo è relativa alle modalità competitiva e alla strategia che l'impresa deciderà adottare nel singolo mercato e dunque eh anche qui eh sotto questo profilo la strategia di internazionalizzazione deve eh trovare un adeguato bilanciamento tra tra due estremi il primo che deve che quella appunto della la standardizzazione a livello globale del prodotto servizio offerto mentre dall'altro l'adattamento rispetto alle esigenze del singolo mercato dunque l'impresa deve standardizzare il prodotto e farne uno per il singolo mercato mondiale oppure deve essere attenta ai singoli bisogni del mercato ed è evidente che ciascuna di di queste scelte natural naturalmente presenta dei limiti e dei vantaggi i vantaggi che che derivano appunto dalla standardizzazione il prodotto servizio a livello globale è legato alla possibilità di ottenere sicuramente delle economie di scala e una maggiore facilità di coordinamento si è produco eh diecimila eh scatole di questa sicuramente a livello globale senza andare a differenziare avrò delle economie di scala già queste economie di scala possono variare se invece su ogni scala devo prevedere su ogni pacchetto devo prevedere la bandiera relativa al singolo paese oppure altri adattamenti del prodotto servizio dall'altra parte le modalità secondo cui appunto l'impresa adatta il proprio sistema di offerta alle esigenze che sono locali assicura una maggiore differenziazione e dunque assicura un maggior adeguamento del proprio eh sistema e del proprio prodotto alle esigenze specifiche del mercato e combinando appunto l'esigenza di standardizzazione globale con l'esigenza di adattamento locale vi sono ehm alcune strategie che sono tipiche tipo della strategia multidomestica appunto che si caratterizza per ehm mediante un basso grado di standardizzazione globale e un elevato grado di adattamento locale invece abbiamo come ho detto quindi la strategia di globalizzazione io metto in pratica una strategia che per me è uguale in tutti i mercati ed è evidente che la eh posizione competitiva del singolo mercato è condizionata anche dalla posizione competitiva che quell'impresa ottiene in tutti gli altri mercati tipico esempio la Coca Cola la Coca Cola anche lì oppure qualche volta eh se andiamo all'estero e ci facciamo un caso la Coca Cola naturalmente è diversa da alcune volte da mercato e mercato ma anche l'acqua io che sono casertano l'acqua ferrarelle che trovo in Italia quando vado all'estero e bevo l'acqua ferrarelle trovo un acqua che è completamente variata e dunque in questa parte bisognerebbe andare un attimo un poco a a a completare ad unire a combinare queste due strategie e eh quindi la combinazione di queste due strategie appunto ci porta alla cosiddetta strategia trasnazionale cioè che è una strategia nella quale l'impresa simultaneamente cerca di adattare il proprio sistema di offerta il proprio prodotto il proprio servizio e le proprie pratiche emaraggereali a livello locale e cercando però naturalmente di trovare un giusto mix con la standardizzazione a livello eh globale tipiche aziende trasnazionali sono Unirever, Nestle, Toyota, la stessa Coca Cola come detto prima dunque dove il il prodotto servizio alla bottiglietta diciamo all'interno è la stessa ma il gas che viene usato all'interno se più frizzante o meno frizzante si adatta appunto alle esigenze del mercato e questa naturalmente è una strategia molto più complessa quindi la trasnazionale atteso che eh richiede appunto eh appropriati meccanismi di coordinamento tra la strategia globale e quella che invece è riferita al singolo mercato più e poi nel nel momento in cui le imprese avviano un processo di internazionalizzazione con l'apertura di sedi estere beh ancora un'altra problematica da andare a affrontare cioè il coordinamento tra la sede estera con quella italiana e questo anche se può sembrare un problema diciamo facile però questo è un problema gerarchico che spesso le imprese soffrono atteso che eh all'inizio naturalmente eh soprattutto nelle fasi iniziali e la sede centrale è la sede italiana eh che eh dalla quale partono appunto le risorse e le competenze che che trasferisce queste risorse e competenze ai mercati nazionali poi quella sede estera naturalmente continua a crescere inizia a crescere inizia avere una propria autonomia e dunque eh eh è necessario passare dunque da una logica che di carattere gerarchico a una logica di cosiddetto tipo eterartico in cui appunto si aumenta l'autonomia man mano che viene concessa alle singole sedi estere anche se poi le stesse devono eh naturalmente questa logica non deve far perdere il contro il controllo alla sede centrale che potrà lavorare naturalmente sul controllo dei eh eh dei risultati ma trova a lavorare anche su quella che è la cultura organizzativa e questo naturalmente diventa un processo essenziale nel momento in cui si tende a dare maggiore autonomia alle sedi esterne ma anche quando appunto questo gruppo che diventa sempre più internazionale si eh si viene a formare come ho detto prima mediante acquisto di eh di eh aziende eh straniere naturalmente è un mix importante nel quale questo processo di eh trasferimento di valori eh di management e di principi dell'azienda madre naturalmente deve essere trasferito in maniera molto lenta e continua eh nell'ambito delle sedi estere. Un altro elemento che bisogna tenere che bisogna avere presente anche in questi casi e eh l'impresa deve considerare anche l'effetto delle culture nazionali. Io diciamo per l'esperienza lavorativa che ho fatto negli Emirati Arabi Uniti l'aspetto culturale è stato fondamentale per le imprese che hanno soprattutto quando iniziato io circa trent'anni fa laddove gli aspetti culturali anche negli Emirati Arabi Uniti erano ancora eh molto più duri ad esempio sempre in quell'area eh in Arabia Saudita solo da qualche anno le donne possono portare l'automobile quindi eh naturalmente pensiamo una manager straniera che arriva e che arrivava cinque anni fa in in Arabia Saudita e voleva guidare la macchina per andare in giro. Allora ci ho premesso naturalmente abbiamo detto le domande che si fanno perché dobbiamo internazionalizzare? Quali sono le tue forze trainanti? Che cosa devi internazionalizzare? Un altro problema è quando ti devi internazionalizzare? Cioè in quale fase di crescita? Perché spesso soprattutto le PMI non hanno ancora quella maturità per essere presenti su quei mercati. E eh le forze trainanti appunto soprattutto delle micro e PMI sono soprattutto quelle interne quindi le caratteristiche dell'interno dell'organizzazione, la dimensione, l'età, l'ubicazione geografica, le competenze, non so se a voi capita ma spesso nelle imprese che si affacciano sui mercati internazionali a volte non hanno personale che sia in grado di parlare in inglese e questo è questo succede spesso. Vogliono andare sui mercati internazionali e chiedono il supporto in art sourcing al commercialista, al consulente anche per scrivergli la lettera. E dunque eh ed è anche secondo me un problema di leadership poi all'interno dell'azienda. Ripeto secondo me non è tanto il fatturato. Quello che conta è la mentalità dell'imprenditore. L'imprenditore che deve essere deciso, deve essere affiancato e deve essere ben supportato. E ehm e dunque l'imprenditore cresce sui mercati internazionali, si rivolge a un dottore commercialista, ripeto noi tutti noi dobbiamo fare un grande sforzo a far sì che diventiamo dei veri artefici del processo di internazionalizzazione delle PMI. L'aspetto fiscale è importante ma abbiamo detto che vi sono tanti altri aspetti. Queste imprese spesso non hanno personale all'interno dunque c'è bisogno di un manager che sia in grado di coordinare tutti questi processi di internazionalizzazione. Anche perché un'altra ulteriore riflessione va svolta ai modelli di business. Ad esempio l'e-commerce. Oggi sembra facile, tutte le imprese pensano che eh si possano mettersi naturalmente su internet o andare su Amazon e iniziano a vendere i prodotti. E questo diciamo non è sempre vero. Sicuramente la dominanza del digitale impone di che molte imprese soprattutto quelle più piccole possono iniziarsi a facciare eh come modello di business sui mercati internazionali attremenza attraverso punto il il commercio elettronico. sia dal nostro paese ma anche mediante eh le le sedi estere ed in tutte le sue declinazioni quindi B2B, B2C, C2B. Però la pianificazione del processo di internazionalizzazione di e-commerce deve naturalmente anche quello tenere conto di tutta una serie di dati effettivi come la la marginalità, i servizi offerti, ad esempio via l'infrastruttura tecnica, cioè eh sappiamo che le imprese che fanno e-commerce per per marginare di più naturalmente nel momento in cui sono presenti eh su siti come Amazon in quel momento quel sito internet quel eh quel grande player a volte può costituire anche un tappo e dunque è evidente danno in atto sourcing tutta una serie di attività io ad esempio ho un cliente che ha raggiunto circa dieci milioni di euro di fatturato in pochi anni in circa tre anni partendo da zero però questo mio cliente diciamo cura dall'A alla Z tutte le fasi di lavorazione lui vende abbigliamento di lusso e questo è un altro esempio di internazionalizzazione prima abbiamo detto le varie modalità di internazionalizzazione lui fa l'inverso lui va in giro per il mondo ha una sede negli Stati Uniti un'altra sede a Dubai ed acquista i prodotti di lusso che costituiscono le grandi rimanenze dei grandi magazzini che stanno in giro per il mondo alcune le lascia da là alcune le riporta in Italia naturalmente le lascia da tipo gli Stati Uniti per poi per non ripagare i dazzi eccetera eccetera e poi dopo dall'Italia naturalmente tramite un suo sito internet che ha acquistato in pochi anni un un buon valore li rivende tutti quanti sui mercati internazionali naturalmente questo l'imposto di avere un'infrastruttura tecnica adeguata sia dalla parte iniziale ma anche per seguire poi tutto il processo evidente lui la non fa direttamente la logistica però già spedire cinquanta sessantamila prodotti capi all'anno per una piccola azienda naturalmente pensate quanti documenti ci sono quanti attività ci sono dietro così come la la logistica la logistica naturalmente che diventa un fattore importante e soprattutto la consegna dei prodotti acquistati deve diventa sempre di più un'esperienza io dico sempre che quando almeno mi capita non so voi ma quando aspetto un prodotto di amazon io so io sono contento perché quella il fattorino che ti bussa la porta altro lo stesso come impacchettato da amazon che ti arriva quel pacco naturalmente quello è un aspetto emozionale e dunque è fondamentale per far crescere online le proprie dunque la capacità di consegna il packaging che andiamo a dare non metterlo in una busta ma metterlo in un bel in un in un bel pacco così come poi ci sono tutta un'altra serie di fattori anche nelle commerce come dicevamo prima che sono appunto le restrizioni doganali pensiamo se oggi vogliamo vendere un prodotto in Russia naturalmente quello ci viene bloccato da dogana e quindi bisogna saperlo bisogna sapere i tazzi bisogna sapere gli embargo dunque l'impresa deve conoscere e rispettare tutta la normativa sull'esportazione sull'importazione e le problematiche doganali ci sono alcune società ad esempio che hanno difficoltà di andare a spedire i propri prodotti in Pakistan per altri operatori invece questo non diventa un problema perché perché appunto nell'altra parte hanno studiato che è un aspetto culturale sanno il labeling che ci deve essere sul all'interno degli stessi prodotti mentre altri pensano che si mette il prodotto in un pacco lo spediscono e invece naturalmente dopo quel pacco viene fermato un altro problema dell'e-commerce come sicuramente ripeto come strategia dell'internazionalizzazione e l'assistenza ai clienti locali atteso che tu spedisci il prodotto ti può ritornare indietro oppure io ho avuto un cliente negli Emirati Rebbi Uniti che è iniziato a spedire i primi le prime 20 30 macchine alla cinquantesima abbiamo dovuto creare una branch che poi che eh badava la manutenzione di queste macchine per il caffè atteso che poi vi è tutto un problema di cioè queste sono partite all'Italia hanno iniziato a spedire uno due tre quattro cinque arrivata a cinquanta avevano le telefonate mi si è rotta la macchina come devo fare non ci avevano pensato e quindi manbiano abbiamo dovuto aprire una branch alla andare andare a fare formazione al personale locale e dunque eh abbiamo costatato che l'imprenditore prima non aveva valutato un'ulteriore problematica anche un altro problema relative ai metodi di pagamento appropriati sappiamo soprattutto dopo la guerra in Russia che ci sono state tutta una serie di trasformazioni paesi che hanno aderito ad altri sistemi di pagamento i bitcoin eh se questi bitcoin quindi che danno anche delle problematiche soprattutto di carattere eh fiscale però in in molti paesi sono diventati una realtà una realtà nella quale il consumatore non è disposto ad adattarsi dunque deve essere l'impresa che si deve adattare e allora il problema è tra poco mi avvia la cosura e anche un altro abbiamo detto abbiamo delle piccole imprese abbiamo sicuramente tutta una serie di difficoltà da valutare prima di entrare su quel mercato internazionale ma le piccole imprese io spesso quando mi trovo a confronto con alcuni amici che fanno il mio lavoro piccolo è bello perché eh il piccolo è bello cioè se pensiamo eh i grandi sarti io insomma ho la fortuna di conoscere una il il CEO che poi è una impresa familiare di una delle maggiori case di moda italiane loro sono nati in una piccola bottega in Sicilia circa cinquant'anni fa e man mano sono cresciuti dunque parlando con lui io dico sempre lui dice piccolo e piccolo ma tu sei nato piccolo gli dico io quindi noi dobbiamo sempre andare a supportare questi piccoli e oggi quali strumenti abbiamo forse questo è uno strumento prima ne parlavo con i colleghi che potrebbe aiutare anche noi cioè le reti di impresa che possono essere appunto un meccanismo virtuoso e che è di collaborazione tra le imprese per essere insieme io in genere sono molto critico con la pubblica la nostra pubblica amministrazione io spesso vedo i nostri soldi dei contribuenti che vanno spesi sui insomma in cose davvero futili e a mio avviso invece noi dobbiamo essere bravi appunto a mettere queste piccole queste micro PMI io quando parlo dalle mie parti dico sempre quando vado a incontrare un gruppo di imprenditori io dico sempre a me serve il Diego della Valle della situazione chi è? Diego della Valle che ha avuto la capacità di mettere in rete tutta la filiera dei calzaturieri marchigiani lui ha pensato al brandy alla diffusione gli altri hanno pensato a lavorare ed è questo il modello nel quale la nostra consulenza dei dottori commercialisti può avere sicuramente un supporto fondamentale l'aggregazione adesso vogliamo cambiare aggregazioni di impresa altre forme giuridiche strumenti alternativi eh alle strutture societarie classiche il dato è che noi dobbiamo essere bravi a mettere questi imprenditori tutti quanti insieme si può internazionalizzare l'attività del piccolo artigiano dell'artista della libera del libro professionista delle attività eh di ricerca qualsiasi altro tipo di attività purché si è assunta una veste di impresa vi sia una testa che riesca a coordinare tutti quanti e qualcuno che riesca a portarli sui mercati internazionali e questo appunto noi dobbiamo essere gli ideatori di questa unione tra le imprese dobbiamo essere gli ideatori e coloro i quali portano queste imprese per mano sui mercati internazionali eh vi sono dei colleghi e non lo dico qua insomma perché è presente che veramente eh sono dei degli esempi di come i professionisti devono comportarsi sui mercati internazionali e coprire diciamo io non riesco a coprire tanti servizi come fa il C ma sicuramente voglio dire sono un esempio quindi anche noi aggregazione specializzazione e l'internazionalizzazione non può diventare il lavoro che faccio tra tanti l'interna chi fa internazionalizzazione chi fa questo tipo di lavoro deve continuarla a farlo deve essere project manager di se stesso e sicuramente nello studio deve avere tanti altri collaboratori tanti altri colleghi che si interessano di tribunali di tributario materia doganale e sulla base della mia esperienza anche di insolvenza sui mercati internazionali io diciamo io sono nato come eh fallimentarista poi nel novantasei vado negli Emirati Rebuniti eh invitato dall'ambasciata perché insomma per una cosa e man mano mi sono avvicinato a quel mercato e allora l'internazionalizzazione non era ancora una scienza aziendalistica l'internazionalizzazione veramente era io ho visto persone che sono nati avvocati che non riuscirono a fare gli avvocati commercialisti non riuscirono a fare i commercialisti che sono andati là con un pacco di pasta che hanno iniziato però purtroppo oggi il mondo è cambiato io stesso mi sono accorto che invece l'internazionalizzazione oggi è una scienza l'internazionalizzazione oggi ha bisogno di figure esperte l'internazionalizzazione non può essere più quel tipo di argomento eh che si trattano all'interno dello studio solo il sabato e la domenica l'internazionalizzazione non può essere più quella materia che si fa da soli e dunque voglio chiudere questo mio intervento innanzitutto ringraziando tra l'altro questa è la giornata introduttiva di questo corso quindi per questo mi sono permesso di fare una chiacchiera con voi su qualche mia esperienza ringrazio ancora l'ordine ed Andrea per l'affetto che sempre ha nei miei confronti grazie grazie mille Francesco io ricordo che il collega Francesco Corbello il presidente della commissione internazionalizzazione delle imprese del nostro consiglio nazionale faccio solo due brevissime osservazioni agganciandomi a cose che ha detto lui certamente perché in studio ci si possa dedicare in maniera eh efficace all'internazionalizzazione è necessario avere anche le altre le altre risorse le altre eh specializzazioni le altre attività di noi commercialisti e questo porta alla necessità delle aggregazioni che sempre più eh sono necessarie per rimanere concorrenziali con le grandi società di consulenza con gli studi grandi studi internazionali e certamente la normativa fiscale col discorso del regime forfettario non aiuta anzi ostacola la l'aggregazione perché rimane molto più conveniente fiscalmente a rimanere a rimanere da soli un'altra brevissima osservazione prima di passare la parola all'altro fuoriclasse della giornata che è Roberto Corciulo al secondo fuoriclasse della giornata chiedo al professor se mi aiuta a recuperare la mia presentazione eh forse ce l'hai la seconda osservazione è questa eh adesso Roberto ci parlerà del dei partner locali nei paesi target allora ricordiamoci sempre che la nostra è l'unica professione che è insieme economica e giuridica quindi i partner internazionali si aspetteranno di trattare certe cose con gli avvocati in realtà sono cose in Italia di nostra competenza perché il diritto societario la contratualistica e il tributario internazionale ce ne occupiamo benissimo noi eh senza necessità quasi sempre degli avvocati passo la parola all'amico Roberto Corciulo passo il microfono tanto condivido intanto che apro ringrazio ringrazio gli amici particolare Andrea Barabino e chiaramente l'ordine Politecnico il nostro capo il parente che insomma come ha detto insomma duemilaquattordici abbiamo iniziato perché poi abbiamo avuto il commissariamento quindi siamo bloccati diciamo duemilasedici Francesco ehm con cui diciamo stiamo portando avanti a livello ordinistico un po' il tema dell'internazionalizzazione delle imprese e come i professionisti possono supportare le imprese credo che eh mi aggancio tante cose che ha detto Francesco mi aggancerò diciamo durante la mia presentazione perché chiaramente eh credo eh diciamo al netto di mettere delle competenze a servizio oggi come oggi in un mondo che sta cambiando molto velocemente in cui le piccole le micro piccole imprese perché i numeri poi veri sono 95% 0 10 dipendenti nei fatti 1,8 dipendenti in media italiana 4.5 10 50 dipendenti 0 5 sopra i 50 dipendenti io questo dato lo sto portando avanti da 15 anni ieri sa ci ho pubblicato il rapporto diciamo eh un rapporto di aggiornamento fondamentalmente i numeri sono gli stessi quindi noi viviamo un territorio tutta l'Italia fatto da micro imprese dove ci confrontiamo un mondo internazionale fatto da aziende strutturate noi prendiamo sempre riferimento molte volte impropriamente la Germania io sono di Udine quindi vivo il nord est ho sviluppato la mia professione seguendo le delocalizzazioni degli anni novanta e poi pian piano mi sono adattato e ho costruito un percorso che poi vi vi spiegherò diciamo e del come poi ritengo che professionisti possono intervenire ma credo che il tema vero sia che il professionista oggi può essere veramente il manager a supporto della piccola impresa deve qualificarsi in questo modo credo che poi Maurizio ne parlerà più ampiamente in questo senso ma gli spazi veramente sono tanti siamo in una fase molto complessa dove chiaramente siamo chiamati tutta l'impresa ma è chiaramente le piccole subiscono una pressione molto molto forte digitalizzazione energia cambi strutturali ISG che sta diventando e sarà un film pesante per le aziende diciamo soprattutto le piccole sulle filiere insomma è tutta una serie di passaggi strutturali che vedremo e su cui siamo obbligati nel 29 c'è il supply chain act che idealmente è stato approvato due mesi fa prima della della nomina della nuova commissione che nella prima versione prevedeva che tutte le aziende evidentemente del fatturato devono essere diciamo tracciate sul supply chain poi hanno messo fortunatamente il taglio a 450 milioni però quel taglio è come destinato a scendere quindi ci ritroveremo come con gli ISG finestra 2028 che di fatto tutte le imprese dovranno fare la certificazione di sostenibilità ISG e contatto. Allora parto da questo quindi dove vedete che il nostro ruolo diciamo all'interno delle aziende veramente diciamo può essere ampio. Io parto da questa mia esperienza che oggi è questa noi abbiamo una struttura che chiaramente abbiamo dovuto costruire in un modello societario standard stando dentro tutte le regole diciamo che ci dà l'ordine quindi per evitare diciamo incompatibilità in quant'altro ma fondamentalmente il nostro modello oggi un modello in cui siamo presenti e per non rischiare la pensione esatto ma di fatti è quello e per e quindi diciamo la presenza sui paesi noi abbiamo presenza 35 uffici su 20 paesi di proprietà dove impegniamo circa 350 persone poi abbiamo tutta una serie di partner che a seconda delle specializzazioni ma sempre sul target amministrativo legale fiscale cioè noi seguiamo l'azienda in tutti in 50 mercati oggi con un modello similare in tutti i paesi quindi certifichiamo diciamo i nostri anche i nostri partner in questo modo certificiamo perché chi sono poi i nostri clienti sono gli studi professionali banche confindustria questi sono i mondi con cui noi ci interfacciamo diciamo da un punto di vista di servizio ma lo vedremo man mano dopo le slide poi sono a disposizione quindi chiaramente e vi prego di farmi domande perché chiaramente poi abbiamo ancora due ore quindi dobbiamo riempire abbiamo lo spazio insomma ecco parto da questo dato che era quello che ha già detto anche Francesco diciamo del di quello che è il contesto questa slide l'ho modificata solo sui numeri delle aziende che operano all'export perché nel 2018 è cambiato il metodo di conteggio istat delle imprese esportatrici prima diciamo nel noi abbiamo raggiunto il picco nel 2013 si contavano duecento e trecimila aziende diciamo poi è cambiato il metodo di conteggio oggi ne abbiamo centotrentasettemila ma partiamo dal contesto di quattro milioni e quattro di imprese attive iscritte registro imprese quindi non parliamo di professionisti parliamo solo registro imprese quattro milioni di mezze di imprese iscritte un milione e otto circa di imprese del manifatturiero centotrentasettemila sono gli operatori dell'export quindi fate già numeratore denominatore e capite di cosa stiamo parlando ma stiamo parlando come ha detto bene Francesco di un terzo del pilo italiano ma se noi andiamo a vedere all'interno di questi centotrentasettemila quali sono le imprese che fanno export ventimila aziende fanno l'ottantacinque per cento dell'export in Italia di queste mille aziende sono quelle che detengono il cinquantun per cento dell'export di queste mille aziende seicento sono in mano straniera che vengono in Italia investire e sperare sempre che vengono investire in Italia perché ci permettono di mantenere aziende di un certo tipo perché purtroppo in Italia è un problema strutturale non riusciamo a fare imprese campioni l'altro giorno Draghi ci ha ricordato che se non facciamo i campioni europei siamo scusate il termine un po' fottuti rispetto a Cina e Stati Uniti perché il nostro vero nostra vera guerra sono quelle quindi noi ci troveremo diciamo a combattere con quel tipo di mondi ci siamo già dentro una mischia dove purtroppo non tocchiamo palla in questi quindi centotrentasettemila meno diciamo ventimila capite bene sono cento diciassettemila che fanno export micro mediamente si parla di meno di settantacinque mila euro diciamo one shot l'anno di export di cui il sessantacinque per cento in Italia in Europa scusate che è un mercato interno quindi fondamentalmente se lo conteggiassimo tecnicamente nella parola export vendere in Unione Europea non è esportare vendiamo in un mercato unico quindi andiamo a depurare anche quello ma insomma per i numeri si va bene anche quello e all'interno di questo dopo lo vediamo i nostri mercati questo un po' l'andamento dell'export diciamo che fortunatamente più o meno sta mantenendo l'incremento 2021 22 23 è dovuto molto al tema inflazione per volumi siamo leggermente scesi l'inflazione ci ha permesso di fatturare meglio diciamo quindi di mantenere questo passaggio siamo comunque in un trimestre positivo però noi viviamo un mondo che in Europa che vede la Germania in forte difficoltà poi ne parliamo questi sono i settori che esportano di più diciamo questo dato aggiornato sui dati sui dati istat fondamentalmente quindi vedete che ci sono dei settori che crescono i settori che vanno peggio tenete conto al netto che noi ci piace il made in italy quindi quelli che fanno fra virgolette ci fanno belli no il food vestiti eccetera eccetera però i numeri veri quelli che girano sono meccanica sono i beni intermedi farmaceutiche quant'altro quelle due volci lì da sole fanno il 60 per cento del nostro export quindi fondamentalmente nel momento in cui e noi siamo come dire bravi a vendere in giro per il mondo delle macchine dei macchinari dove mediamente non abbiamo reti di assistenza problema che noi ci compare noi quando ci compariamo con i tedeschi una macchina tedesca costa 30 per cento mediamente in più di una italiana adesso faccio un numero proprio da scuola però i tedeschi hanno l'impresa media tedesca fattura 2 miliardi la nostra media fattura 30 milioni fondamentalmente le aziende tedesche sono presenti in cento mercati fanno assistenza all'after sale è un modello manageriale che ha già visto il salto da impresa familiare piccola impresa manageriale questo salto qua da noi è mancato questo è un problema credo che professore siano dei temi che su cui si scontra diciamo diciamo dal punto di vista pratico su questo tema qua chiaramente diciamo il nostro sistema ha portato a far sì che le aziende producono delle macchine che non devono avere bisogno di assistenza e questo chiaramente vuol dire costa perché devi fare delle macchine dure forti perché altrimenti l'assistenza mediamente cosa è fatta è fatta dal tecnico che prende la borsetta va con l'aereo stati uniti in messico in cina va a riparare il macchinario però capite bene che un macchinario da me in Friuli come a Brescia abbiamo molti aziende che lavorano nel settore della lavorazione dell'acciaio da Daniele a scendere diciamo tutto quel mondo lì quando si ferma un laminatoio al giorno viaggiano centinaia di migliaia di euro di danni viaggiano sono problemi con la pandemia poi è esploso tutto questo meccanismo perché le aziende non potevano viaggiare quindi si sono creati veramente di grossi problemi il dove il nostro export qua andiamo sui per quelli che vedo io i futuri mal di pancia diciamo a noi abbiamo mercato diciamo il primo mercato è la Germania il mercato che la Germania che vedete sta decrescendo diciamo per dovuto alla crisi in cui è viaggia la Germania oggi è uscito un articolo in cui due terzi delle aziende tedesche si stanno spostando all'estero soprattutto Canada paesi Emirati Arabi Uniti Stati Uniti per ragioni di costo dell'energia ognuno poi ha le sue idee qua stiamo giocando una partita in cui il pallino di biliardo dell'Ucraina ha colpito per prima la Germania che è l'anello debole del nostro sistema europeo perché è quella che gestisce a livello mondo ci sono tre macro come dire mulinelli le chiamo io no c'è la Cina esportatore volume primo esportatore al mondo c'è la Germania se primo esportatore al mondo pro capite secondo in termini assoluti Stati Uniti questi fanno girare tutto il sistema noi Italia siamo agganciati sulla Germania e sugli Stati Uniti non sulla Cina per vendite sopra i 40 miliardi di fatti nostro primo mercato sono gli Stati Uniti se lo conteggiamo secondo in valore assoluto ma primo se andiamo a conteggiare anche tutti i beni che vengono venduti a Germania Francia incorporati in autovetture quant'altro e poi triangolati sulla Germania al 30 giugno l'avanzo commerciale con di 100 miliardi di avanzo commerciale che aveva il nostro sistema 50 erano sugli Stati Uniti però gli Stati Uniti ci stanno facendo guerra commerciale noi siamo in una guerra commerciale non sono solo i dazi sulle autovetture elettriche cinesi che vanno là su cui anche l'Europa ha seguito l'esempio della Cina ma gli Stati Uniti stanno facendo un'operazione di reshoring importante ormai tenete conto tanto per darvi dei numeri allora il momento di spaccatura è stato il 2008 non è la guerra in Ucraina non è la guerra a Gaza non è la non è la pandemia eccetera 2008 ha segnato il fallimento del sistema finanziario americano e da lì loro hanno cominciato a fare reshoring tra il 2008 e il 2016 prima che venisse eletto Trump su 4000 misure tarifari non tarifari gli Stati Uniti avevano emesso 1600 misure non tarifari tarifari questo perché perché chiaramente portano tendono a riportare le produzioni in casa c'è stato un fenomeno di chiamiamolo così globalizzazione spintissimo dove chiaramente i principi sono stati gli Stati Uniti che hanno sottovalutato la Cina hanno usato la Cina come diciamo piazza dove delocalizzare finanziarizzando diciamo al massimo le capitalizzazioni di borsa sistema che ha funzionato reso chiaramente un sistema degli Stati Uniti perfetto dal punto di vista finanziario industrialmente gli Stati Uniti hanno perso la corsa salvo nelle tecnologie chiaramente i vari Google Microsoft eccetera sono forti ma se guardiamo in termini di mano d'opera un automotive che impegnava 30 40 milioni di persone oggi impiegano meno di 600 mila persone con l'intelligenza artificiale generativa stanno mandando a casa migliaia di persone perché non servono più i programmatori quindi cambia lo scenario però fondamentalmente il gli Stati Uniti stanno riportando le produzioni in casa per cui noi italiani siamo oggi utili perché forniamo beni di investimento perché loro devono produrre fra dieci anni fondamentalmente che torneranno ad acquisire tecnologie torneranno a avere un loro principio non sarà più il nostro principale mercato o comunque sarà bloccato sarà importante perché un mercato importante però sostanzialmente il film va in questa direzione oggi come oggi il mondo si sta spacchettando in tante macro aree in cui fondamentalmente poi la presenza dell'azienda è fondamentale perché oggi come oggi proprio dovuto questo fatto di muri che si stanno erogendo dal punto di vista pratico in Cina, l'Unione Euroasiatica, i blocchi africani, i blocchi dell'America Latina eccetera eccetera man mano andranno a creare delle macro aree in cui le aziende per entrare faranno fatica perché nel momento che ho dei dazi per entrare in un mercato chiaramente non sono competitivi quindi questo è un film oggi che chiaramente si riflette sull'economia e su cui la mia grande chiamiamolo così ansia per il sistema imprenditoriale italiano è appunto dato delle piccole imprese e purtroppo dico lo dico qua fra colleghi noi siamo un po' anche causa di questo sistema come ha detto Francesco noi siamo piccoli strutturalmente non siamo in grado di portare le aziende in un certo modo aggregato di metterle assieme di avere la forza di metterle assieme però arriverà il momento in cui dovremmo farlo gioco forza perché alla fine chi comanda è sempre il mercato purtroppo piace o non piace ci piace stare nel nostro comfort zone però questa comfort zone diciamo pian piano sta svanendo dovuta per come sta cambiando il mercato le condizioni del mercato che ci imporranno certe situazioni questo è un modello diciamo noi cerchiamo sempre di cercare di strutturare dei modelli anche per far sì che poi diciamo le persone riescano a non essere come destrutturate quindi nell'accogliere interpretare bene un bisogno di un'azienda nell'accompagnarla sul mercato promuoverla orientare l'azienda quindi da questo fondamentalmente adesso ho cercato di spacchettare fondamentalmente le criticità le soluzioni professionali dove ci possono essere le opportunità di servizio da parte del professionista perché in tutto in tutto questo dobbiamo tener conto che non è solo la parte finale di arrivo su un mercato quindi devo essere bravo a seguire l'azienda in Russia in Cina Stati Uniti ma c'è tutto un lavoro a monte che come dicevo prima crescerà gioco forza in Italia che è collegato a quello che è la parte di internazionalizzazione quindi se io sono un'azienda piccola fondamentalmente poco strutturata manco di informazioni devo andare sul mercato vado a devo fare tutta una serie di attività devo avere delle figure che mi coprono un check up un'analisi di mercato avere un export manager un account manager cioè devo individuare questo attività che oggi credetemi proprio anche a seguito di questo percorso che l'ordine nazionale ha avviato molti colleghi si sono specializzati a coprire questo tipo di area che non è un'area per forza professionale classica faccio il bilancio eccetera è di un accompagnamento faccio proprio il tempo a rimanere a favore dell'azienda credo poi ma Maurizio ne parlerà meglio poi c'è tutto il tema della pianificazione quindi tutto l'accesso servizi di consulenza legale fiscale in Italia per accompagnare l'azienda il business plan la definizione del setto proprietario 231 compliance pianificazione fiscale legale internazionale sotto attività queste che possono essere fatte tranquillamente in Italia non bisogna andare all'estero però da qui nasce poi un tema come accompagno il cliente l'azienda sui mercati esteri quindi fondamentalmente posso essere una struttura che non ha diciamo una struttura grossa però vado a crearmela con delle aggregazioni con delle con dei modelli ogni ognuno può trovare un suo modello di sviluppo c'è il tema tutto il tema di limitato accesso a credito che è un tema che ci colpisce colpirà sempre di più e che chiaramente nel momento in cui andiamo all'estero non troviamo le risorse all'estero se dimenticatevi di andare a aprire la società qualsiasi paese d'europa andare lì e pensare che vi diano un finanziamento per operare non esiste finanziamento fondamentalmente ve la dà la vostra banca che destina una parte delle vostre garanzie a coprire diciamo l'investimento lì ma anche qui e teniamo conto l'altro giorno sono stato un convegno organizzato una banca mi ha dato un dato che non ci facevo troppa attenzione ma un po' mi ha lasciato nel senso mi dicevano guardate che oggi il credito sta come dire sta scendendo il credito fatto alle imprese da parte delle banche siamo al 30 giugno a 660 miliardi di credito alle imprese dieci anni fa erano 1080 miliardi e questo è un fenomeno dovuto alla fatto di regolamentazione perché la regolamentazione chiaramente porta dei costi per cui le banche sono tese meno o a dare i soldi solo a certi soggetti da qui nasce la capacità anche del professionista di poter supportare l'azienda nel reperimento di risorse noi abbiamo un sistema oltre che sistema bancario che in questi anni si è evoluto moltissimo a supporto delle aziende sistema internazionale ma abbiamo una serie di strutture simest finest satse fondi di investimento che sostanzialmente possono supportare questi percorsi e questa è tutta un'attività italia io ancora non ho toccato l'estero quindi ognuno può trovare uno suo spazio di accompagnare le aziende in questo è chiaro come ha detto bene francesco non si possono fare le attività sabato mattina bevendo il caffè al bar questo tipo di attività richiede formazione continua professionalizzazione entrare nel merito capire dinamica e quanta poi andiamo nella parte di supporto all'estero quindi dove ci troviamo diversi sistemi fiscali e commerciali quindi qui abbiamo necessità di entrare a trovare dei servizi io ad esempio mi sono collocato su questa fascia qua quindi ad esempio lavoro anche con finest ordenone diciamo in friuli c'è la finest lavoriamo però come come dire come non è il nostro mestiere principale nostro mestiere principale quella proprio in questa fascia qua dove ci siamo collocati con supporto di presenza fisica sui sui vari paesi dove siamo dove abbiamo dei professionisti parlanti italiano perché in ogni ufficio abbiamo almeno un collega italiano una struttura di prima linea che parla italiano per assistere l'azienda che come diceva francesco ancora oggi nel 2024 fa fatica a parlare italiano perché tutte le aziende italiane benissimo mantengono le sedi in italia si è foo evoluti giovani bocconiani rampanti però nel momento in cui devi andare a discutere in un sistema legale della cina piuttosto che degli stati uniti credetemi gli stati uniti sono più difficoltosi della cina per certi versi culturalmente vogliono avere chi glielo spiega in italiano e questo è un tema oggi oggettivo e pratico su questo come succede ognuno può poi scegliere sempre partendo parto sempre da quello cosa può fare un professionista sceglie di avere una sua struttura con presenza oppure di affidarsi a dei professionisti o essere parte di network o associazioni di contabili o di legali a seconda del suo mestiere e qui apro una parentesi allora esistono se voi andate ci sono diciamo tantissime associazioni di professionisti diciamo ci sono varie modalità di 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 come di diretti diciamo internazionali e quant'altro i network normalmente sono associati alle grandi big four meccanismi molto rigidi marchio unico procedure molto strette quant'altro quindi sostanzialmente le grandi big four che fatturano le prime quattro fatturano qualcosa come cento centocinquanta miliardi diciamo in quattro di loro di dollari di fatturato di servizi tra revisione contabilità consulenza eccetera eccetera quindi centocinquanta miliardi le prime quattro ok dietro c'è un mondo e vanno fondamentalmente hanno un modello in cui chiaramente possono entrare solo studi strutturati che sono in grado di garantire in questo caso uno in italia ha la struttura può permettersi diciamo di ipotizzare di entrare ormai su un mondo in molto coperti quindi si fa fatico oppure associazioni indipendenti quindi dove io aderisco pago una fee annua per essere studio qua vedo un amico con cui siamo parte di un di un'associazione diciamo che si chiama dfk con cui supportiamo diciamo come dire nel paese dove io non sono presente mi appoggio questo questo tipo di struttura che mi dà la garanzia copertura su mercati diciamo fra virgolette eh come dire strani o comunque dove è difficile accesso o non non normale in quindi in quel caso lì io mi rivolgo al professionista ieri mi è capitato una richiesta mi hanno fatto su panama per l'apertura di un magazzino mi sono rivolto al collega di fk di panama che ha la sua struttura col suo marchio e quant'altro che io vedo sulla directory so che bene o male è certificato e chiaramente mi fido diciamo che mi possa dare un servizio quindi posso farlo idealmente senza avere una struttura estera quindi muovermi in questo modo quindi questo diciamo è un po' se vogliamo il cuore di un certo tipo di supporto che può essere dato poi il tema legato alla mancanza di competenze risorse umane che oggi forse è il tema principale di tutti ogni studio credo faccia fatica a trovare oggi praticanti non ci sono non siamo attrattivi eh chiaramente diciamo tutta questa cosa qua diciamo ci porterà dei problemi gioco forza porterà a delle aggregazioni cioè quello che dicevo prima è il mercato che comanda e se per rispondere al mercato saremo costretti a fare nuove cose ad adattarci a cambiare la nostra professione quant'altro quello è un dato di fatto cioè possiamo vedercela magari succederà fra dieci anni alcuni di noi fondamentalmente io ho 60 anni quindi probabilmente vado in pensione prima non vedo però voglio dire oggi ho visto dei ragazzi in qualche studio entrano gli fanfare eh dichiarativi telematico e guardano ti dico uomo fra cinque anni sto mercato qua sarà tutto intelligenza artificiale non voglio perdere tempo qua vado a fare altre cose stringo eh cioè giusto così però il tema del capitale umano è importante quindi su questo altro tema su cui noi professionisti siamo coinvolti formazione education e temporary manager perché chiaramente diciamo possiamo essere effettivamente oggi fautori di cambiamento anche nelle piccole imprese perché il problema che abbiamo noi negli nostri studi ce l'hanno stesso moltiplicato molte volte per dieci le imprese perché chiaramente si ritrovano in condizioni molte volte molto vincolate per il mercato per la filiera in cui si trovano sulle investimenti su tutto questo sistema qui metto un po' i servizi quindi dove fondamentalmente in un percorso di internazionalizzazione tutta la parte di servizi quella che vi dicevo prima come si va a svalutare quindi faccio valutazioni quindi check up analisi di mercato pianifico entri strategi consulenza legale fiscale finanziaria business plan vado a costruire la mia presenza diretta indiretta in che modo filiali non filiali branch società dirette soci non soci eccetera eccetera poi ho una presenza organica con società con tutti quelli che sono i servizi che ho dietro in organica quindi alleanze fusione acquisizioni business plan per gestire valutazioni strutturazione di accordi quindi fondamentalmente vedete c'è un mondo e che può essere anche spacchettato perché ormai quando parla di specializzazione francesco è questo cioè avere riuscire a coprire tutta questa filiera qua vorrebbe dire avere strutture da 4 500 persone diciamo con specialisti oggi come oggi chiaramente si riesce a rispondere ai pezzi ma se non hai una dimensione strutturata fai molto fatica poi hai tutto il tema della crescita quindi localizzazione eventuali investimenti greenfield e quant'altro nell'ottica che vi dicevo prima del di come sta cambiando il mercato negli ultimi anni faccio esempio sempre gli stati uniti perché mi viene bene il nostro primo mercato io lo considero di fatto il nostro primo mercato no e per questo sistema in cui si sta spacchettando il mondo paesi occidentali di cui noi facciamo parte paesi brics che fondamentalmente non sono contro l'europa contro l'emerso contro l'occidente per loro fondamentalmente siamo soggetti da combattere punto in qualche modo nel tempo nelle varie misure eccetera questo sistema qua noi appunto quindi andiamo sugli stati uniti oggi gli stati uniti sono un mondo in cui da dei pacchetti finanziari di supporto chi va a insediarsi altissimi nelle vari stati detassazione veramente io lo chiamo un paese offshore perché poi sapete tu che sei a Dubai fondamentalmente loro col sistema dello scambio di informazioni fondamentalmente hanno segato loro si sono creati un modo per portare là tutti i fondi o gran parte che giravano Dubai o Singapore sono andati negli Stati Uniti chi non ha fatto volontà di scloso chi non ha voluto gestire negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti non scambiano quindi tu vai là porti i soldi là te li gestisci là paghi le tasse là non te li porterai più fuori perché chiaramente però non scambiano con quel meccanismo lì hanno portato in casa più le detassazioni fatte da Trump al 21 per cento eccetera hanno portato in casa fiumi di denaro perché avevano necessità di avere il denaro da investire nelle varie operazioni di ristrutturazione di tutta la parte diciamo infrastrutturale ponti che cadevano autostrade inesistente rete ferroviaria da terzo mondo cioè i cinesi hanno 6.000 6 8.000 chilometri di rette iperveloce negli Stati Uniti su 1.600 ponti distrutti aeroporti distrutti chi viaggia in giro per gli Stati Uniti cosa che succederà in Germania la Germania fra breve avrà questo tipo di problematica che quindi è un'opportunità guardandola in avanti in Europa che ci toccherà lavorare molto di più in Europa quindi ma questo è se vuoi è il vero tema cioè l'ha tirato fuori Draghi l'altro giorno mentalmente cioè cosa sta succedendo questa guerra Cina e Stati Uniti perché ripeto noi non tocchiamo palla ci piace o non ci piace ma noi non tocchiamo palla cosa succede che i cinesi hanno fatto dumping da negli ultimi 15 anni su l'elettrico quindi tutte le materie prima elettrico produzione dell'elettrico su tutto il tema del diciamo legato a fotovoltaico e quant'altro tutto legato a quello e loro oggi sono detengono il 95 per cento del mercato e i CIP anche diciamo in qualche modo perché anche loro diciamo hanno investito sono tutti i settori in cui se lo Stato non interviene continuamente a mantenere anche le punte negative sono settori che riescono a saltare il CIP Act adesso europeo americano è un sono ha messo l'Europa 500 miliardi il gli Stati Uniti 2000 miliardi per creare dei campioni nazionali che dovranno essere sostenuti dagli Stati a prescindere quindi manovre keynesiane pesanti che chiaramente però se li guardiamo in avanti tutto questo implica una presenza dello Stato sempre più alta filiere sempre più strette che costeranno di più il mio io pongo il problema che già oggi con un'inflazione nostra quella europea derivante da costi costi energia costi del personale delle materie prime che sarà sempre più alta noi non saremo competitivi e non saremo in grado di scaricare potremo scaricare solo nei paesi che ce lo permettono già noi italiani abbiamo goduto per negli ultimi 20 anni dello scalino economico della Cina cioè la Cina con il salto economico che ha fatto che ha portato fuori della miseria un miliardo e quattro di persone eccetera però ha mantenuto i prezzi delle materie prime fino al 2013 prima che saltasse l'Ucraina dopo c'è stato il crollo e poi sono tornati su ha mantenuto dei prezzi che erano folli sulle materie prime quei prezzi lì hanno fatto sì che tutta una serie di produttori di materie prime Russia Arabia Saudita Brasile eccetera si siano arricchiti e con quei soldi lì sono venuti a investire a comprare beni in Italia ad esempio noi abbiamo venduto a paesi che noi dove noi possiamo permetterci di vendere perché quei costi che abbiamo infrastrutturali di energia burocrazia tasse quant'altro noi possiamo vendere solo in paesi che sono in grado di pagare non riusciamo andare a vendere nei paesi diciamo a basso valore aggiunto questo è il salto e su cui noi dovremmo siamo costretti a oggi per il nostro sistema investire a salire però col debito che ci troviamo dietro lo Stato da noi fa fatica per cui se c'è un tema europeo beh se no io sono in linea con quello che dice Draghi non sono sempre come dire un draghiano diciamo spinto però su tante cose ha ragione perché chiaramente oggi come oggi il nostro futuro complessivo si gioca su queste partite degli investimenti di Stato perché altrimenti sulle infrastrutture treni veloci strade e tecnologie e quant'altro perché se no non saremo competitivi saremo veramente fracassati quindi e le filiere sono tutte legate dietro perché ogni filiera va in quella direzione lì quindi le nostre piccole aziende saranno fracassate da questo sistema questa è la realtà dei fatti cioè non succede fra un anno ma fra cinque anni sei anni ci troverai in questa situazione qua quindi noi professionisti dovremmo essere veramente motori di cambiamento in questo senso e costringere le aziende guardandolo in faccia negli occhi dire tu sei in questa filiera questa filiera ha senso vivrà sopravvivirà sino se no cambia mestiere subito se vedi cosa sta succedendo nelle filiere dell'automotive no cioè con sta follia del green ag 2035 no cioè che stanno saltando con cioè voglio dire ormai tu se sei in quella filiera lì se non cambi nell'arco di di quando hai finito i tuoi contratti è chiuso voi siete in un territorio che l'avete provata sulla vostra pelle questa cosa qua cosa ha voluto dire l'uscita diciamo della FIA diciamo dal territorio tutto quello che si è portato dietro ma in termini di ricerca e sviluppo tecnologie di fabbriche che sono tutti andati chi è sopravvissuto è andato in Brasile io in Serbia ne seguo due tre aziende che sono tutte a fare i fornitori della Zastava no sono andati in India chi si è potuto permettere ha capito quella finestra temporale lì 2008-2010 punto oggi non te lo puoi più permettere perché ormai sono consolidati no quindi e quindi sono quelle cose in cui devi avere questo tipo di visione perché altrimenti non sei impantanato diciamo quindi torniamo sfide PMI dimensione struttura del management organizzazione processi competitività indebitamento che chiaramente diciamo lo abbiamo visto lo stiamo vedendo con questo momento di inflazione e costi del denaro cosa comportano per per le aziende abbiamo una globalizzazione che sta cambiando pelle verso una più forte regionalizzazione stagnazione del mercato interno urgenza di trovare clienti strette creditizie quindi carenza di esperienza limitatezza di risorse umane che ripeto oggi io lo vedo essere il primo problema di tutti debolezza di strategia progettazione costi elevati per tentativi errori oggi non ci si può più permettere di fare tentativi io ho iniziato mi sono laureato otto giorni dopo la caduta del muro c'era un mondo si è aperto Ungheria noi abbiamo aperto in Ungheria nel 93 no erano mondi in cui tu andavi là da italiano vendevi tutto vendevi tutto potevi fare quello che ti permette oggi questa cosa qua non esiste a non si sente più l'audio eh no è caduto tutto si è spenta vediamo sì ok spero allora in tutto questo fondamentalmente il nel preparare ma ne parlerà meglio diciamo Maurizio dobbiamo conoscere i mercati preparare un piano di azione dobbiamo anche avere una strategia chiaramente prima in Italia perché fare un'azienda all'estero o andare all'estero come fare una nuova attività quindi vuol dire proprio inventare all'interno della propria azienda un sistema nuovo con tutte le competenze eccetera eccetera quindi ho lasciato solo due cose che così ti lancio la palla a te ti alzo la palla per dopo diciamo evitare di agire prima di aver finificato di sottovalutare i concorrenti essere impiazzenti quello di conservare le opportunità e non i rischi non ascoltare le esigenze dei clienti sono tutte tematiche diciamo che vengono fuori sui mercati fondamentalmente questa è l'area che poi chiaramente è i servizi che vengono richiesti diciamo per quindi anche nelle presenze come diceva bene Francesco banalmente uno va in Cina e apre a un sito Italia in Cina non funziona c'è un problema di di router diciamo di blocchi quindi usano in Cina usano il 99 per cento i pagamenti sono fatti anche il disgraziato che chiede la carità al mercato con WeChat ti presenta il QR quindi fondamentalmente siamo siamo noi siamo indietro rispetto loro da questo punto di vista quindi chiaramente se non sono in grado di capire quelle dinamiche lì perdo tempo quindi anche fare l'e-commerce italiano dove vado a fare la promozione in Cina banalmente uso il WeChat per fare la promozione ma l'e-commerce in Italia non funziona un cinese fa un acquisto in 24 secondi se voi provate a fare l'accesso su un sito da Cina in Italia se ti va bene dopo dieci minuti forse comincia a vedere la prima pagina quindi sei già fuori completamente quindi devi adattarti alle situazioni quindi partendo dalle cose dalle cose basiche che partono esperienze paesi target dei prossimi anni allora questi diciamo è lo scenario attuale oggi noi abbiamo allora io faccio sempre una metto l'Europa sperando sempre che l'Europa ci sia perché ripeto e faccio un discorso non politico faccio un discorso prettamente di interesse come fanno tutti gli stati cioè io per essere competitivo devo essere Europa devo avere una massa critica di numeri in cui mi siedo su un tavolo e dico perché sapete da noi si dice chi ha soldi ha vinto questa è la regola base in tutti i contratti cioè se voi andate a trattare piccolina azienda andate a trattare con Stellantis comanda Stellantis vi danno pacco così non potete neanche permettervi di cambiare una virgola forse alla fine il titolo di chi firma punto il resto subite quindi nel mondo gira così quindi noi ci troviamo con facendo la diversità tra eh pil nominale con appunto valore attuale del dollaro che è diciamo in verde e il pil valutato a cosetto PPP diciamo tipo il McDonald index vedo che ho gli Stati Uniti oggi sostanzialmente sono i primi produttori di pil in termini nominali ehm in termini nominali l'Europa l'Europa fondamentalmente viaggia sotto i 20 miliardi a 27 la Cina viaggia poco sotto l'Europa in termini nominali però vedete che se andassimo a valutare col cambio dollaro eh reale diciamo il potenziale saremo già che la Cina ha superato abbondantemente diciamo il mercato americano qui c'è un tema chiaramente oggi pesante pesantissimo che ha tanto una serie di conseguenze di dumping produttivo della Cina la Cina ha un mercato interno che si è impantanato che non assorbe quello che producono per cui stanno vendendo a prezzi decrescenti all'estero stanno quindi facendo dumping sulle materie prime e nessuno come dire eh anche i paesi BRICS vedi Brasile e altri stanno introducendo dazi per limitare questa cosa qua e questo non è un tema sano cioè oggi la Cina soffre questo riequilibrio di CCP che chiaramente non sta funzionando nei fatti il pil loro non sta crescendo come dovrebbe quindi questa cosa qua è un mal di testa e quindi questo si rivolge poi su tutto il resto poi abbiamo la Germania fondamentalmente Giappone India mercato in fortissima crescita Inghilterra in paese impantanato Francia politicamente impantanato l'Italia sopravvive però un debito pubblico pesante Brasile questi sono un po' i vari produttori di pil diciamo l'export diciamo ha avuto vedete ha avuto un salto in giù nel 2008 poi pian piano ha ripreso i numeri su cui eravamo arrivati prima del 2008 qui il tema il tema pratico è che è cambiato il meccanismo delle cosette catene globali del valore e sono soprattutto Cina e India che hanno internalizzato le catene del valore allora tema automotive nel mondo se noi depurassimo il sistema di interscambio dal produzione di autovetture vendite di autovetture e dell'oil e gas avremo una fotografia completamente diversa del sistema di interscambio diciamo nell'ambito del mondo automotive in Europa la Germania diciamo fa circa il 30 per cento del suo appeal sull'automotive e chiaramente nel momento in cui parliamo poi di Green Deal 2035 salto il motore endotermico e quando sentiamo che Volkswagen chiude due stabilimenti BMW in crisi eccetera ci possiamo spiegare perché no quindi con tutto quello che ne viene dietro perché c'è tutta la filiera diciamo dietro che che è agganciata a questo però cosa succede la Cina che era un assemblatore fino a 15 anni fa ha cominciato a portare a internalizzare in Cina la catena del valore quindi la produzione di componenti e di conseguenza è diventato produttore autonomo ma non solo sull'automotive ho fatto l'automotive ma nel bianco in tanti settori è diventata leader montiale di produzione ha creato delle fabbriche verticali che chiaramente le permettono dei vedete pannelli solari con chiaramente l'aiuto di Stato che hanno creato chiaramente in squilibrio però questo ha fatto sì che la Cina compra di meno dall'estero stessa cosa è successa in India cioè parliamo che nell'arco tra il 2008 e il 2017 è crollato di più del 50 per cento l'import di beni da esteri dove chiaramente l'Europa vendeva prodotti ad alto valore aggiunto su questi mercati emergenti quel fenomeno lì si sta spompando e quindi in valore assoluto l'export globale cresce ma in valore chiamiamolo relativo paese paese sta decrementando già da molti anni ed è un fenomeno di questo questa cosiddetta regionalizzazione che si sta assistendo a livello a livello globale con tutto quello che si porta dietro diciamo e ripeto derivante dal fatto che è cambiata la logica del VTO della del globalizzazione e quant'altro. Queste sono le previsioni globali che vengono date il Fondo Monetario Internazionale purtroppo è come dire quando si va oltre i due anni è come dire sfera di cristallo maga magò fondamentalmente perché qua nessuno l'ha imbroccata una cioè negli ultimi vent'anni non c'è nessuno che è riuscito a fare diciamo una come dire una previsione azzeccata diciamo nel medio perché poi ti capita il segno nero e quindi salta però fondamentalmente vedete che il mondo viene previsto più o meno stabile leggermente a stabilizzarsi i paesi emergenti che sono quelli verdi diciamo un attimino anche questi stabili e come dire i paesi emergenti scusate in rosso decrementano le economie avanzate tengono duro ma non fanno questi salti mortali quindi questa cosa qua chiaramente andrà un po' lo vedremo soprattutto nel venticinque se ci sarà questa fase di recupero premesso che abbiamo almeno spero scampato una recessione quindi fondamentalmente siamo in una fase diciamo di come dire passaggio intermedio insomma spero che il venticinque porti un po' di bene questo è sacce che da non sto nel dettaglio ma fondamentalmente nelle slide vedrete sono dei dati sacce devo dire che oggi sacce è quella che sicuramente ha un osservatorio privilegiato dal punto di vista operativo quindi vede quelli che sono i mercati che hanno quel tendenziale a crescere quindi su cui le aziende per quanto mi riguarda devono fare dei ragionamenti diciamo in questo momento ad esempio si sta parlando molto di Africa subsahariana o anche di Africa del nord fondamentalmente anche se l'unico mercato che gira un po' è il Marocco Tunisia impantanata politicamente Libia sapete è lì da 12 anni fracassati anche se però ci vengono il petrolio primo nostro fornitore quindi insomma sperare che non succeda mai niente Egitto che non ha fondi e quindi di una valuta e quindi è 100 però ha 100 e ha rotto milioni di persone in quella fascia lì ci sono diciamo 2030 avremo più di 350 milioni di persone di cui 70 per cento sotto i 30 anni in una demografia dove noi fra 2050 prevediamo che saremo in 40 milioni in Italia per il fatto demografico Europa dietro la Germania quindi con tutto quello che ne consegue. I livelli di rischio ecco altro tema però molto molto pesante è il livello di rischio vedete che è sempre dato da Sazze la mappia di rischio soprattutto con invasione chiaramente della Russia sull'Ucraina che non è in guerra la Russia non è in guerra ricordatevi per cui molti soggetti hanno cercato di fare svincolarsi dei contratti in Russia dicendo che c'era la guerra in Russia non è riconosciuta quindi fondamentalmente tu non puoi svincolarti perché la Russia tecnicamente non è in guerra la Russia ha invaso un altro paese quindi è l'Ucraina che è in guerra con la Russia quindi da questo punto di vista però questo ha portato un rialzamento delle sanzioni pazzesco siamo arrivati al quattro dicesimo pacchetto c'erano già quelle di Iran e quindi per noi fondamentalmente è diventato un po' un mal di testa io vivo il nord est e il nord est come dire sta vicenda qua della Russia sta pesando parecchio diciamo chiaramente la gente si riadatta. L'Africa di cui appunto sentiamo parlare Piano Mattei, Simes che ha messo 300 milioni eccetera eccetera vedete i colori di rischio che ci sono quindi insomma le aree del mondo in cui più o meno diciamo si va più o meno tranquille non è che sono proprio tantissime e chiaramente la grossa azienda strutturata riesce a gestire e quindi sa anche usare gli strumenti oggi esempio la Sace è un tema che vi consiglio tutti di studiare i prodotti Sace di seguire Sace consiglio nazionale io faccio parte dell'osservatorio abbiamo creato proprio su idea di Michele Locuratolo e del nostro presidente il bano denuncio è nato proprio un tavolo strutturato con tutte le varie istituzioni italiane proprio perché abbiamo anche contezza di quello che loro stanno facendo e la Sace secondo me è quella che sta crescendo di più in termini di prodotti di servizi di supporti e può essere un utilissimo aiuto per i nostri clienti cioè già ci sono dei colleghi in giro per l'Italia io mi trovo a girare che si sono specializzate a seguire solo con Sace offrire servizi di supporto alle piccole imprese credetemi ci sono veramente tanti spazi io faccio perché quando parlo di un esempio numerico no che così ti fa capire così fa svela perché quello vedo che l'unica cosa che che smuove due anni fa ho seguito con dei colleghi di Gorizia abbiamo seguito un'esportazione in Messico di un impianto usato di laminazione 7 milioni di impianto allora Sace dà l'assicurazione 6 milioni di garanzie fatto un buyer's credit quindi fondamentalmente venduto con tutte le garanzie il fornitore è stato pagato la Simmes ti dà l'80% di fondo perso su quello che paghi a Sace erano 400.000 di premio fate l'80% di 400.000 quelli lì pura consulenza che si è presa la società di Gorizia che ha seguito questa roba qua ok banalmente ecco hanno c'è un funzionamento interessante quindi diciamo sono aree su cui ogni tanto vale la pena di dire al vostro cliente che esporta ma tu con Sace cosa fai perché credetemi gli strumenti poi quest'anno hanno lanciato il piano industriale hanno messo giù degli strumenti che sono anche ultra decennali sono veramente interessanti e quindi su questa cosa qua diciamo prego preizione del 10 ottobre avremmo quel portale di Simone della Sace Simest 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 e oggi come oggi credetemi vale la pena metterci la testa soprattutto per noi perché nell'azienda molte volte l'imprenditore però perché preso nel quotidiano non guarda non pensa sono strumenti che però hanno una loro efficacia e non sono solo le banche cioè nel senso l'accompagnamento usi anche chiaramente la banca ma può essere un qualcosa su cui specializzarsi o fare questi sono i livelli di rischio delle varie aree diciamo livello appunto finanziario paesi sanzionati riconfigurazione della globalizzazione dove stiamo andando? Allora in questo percorso fondamentalmente ci sono come dire stanno nascendo di cosiddetti paesi connettori diciamo che hanno delle agevolazioni hanno delle accordi di libero scambio favorevoli esempio il vietnam in asia per esportare sugli stati uniti messico negli stati uniti perché è diventata la piattaforma produttiva il marocco che ha l'accordo di libero scambio stati uniti con l'europa e arriva giù sui paesi del golfo gli emirati arabi l'india sono paesi sostanzialmente che utilizzando le come dire soprattutto gli accordi di libero scambio che hanno saputo mettere in piedi diventeranno diciamo sempre più dei paesi connettori su cui passare per riuscire a esportare avere relazioni con Europa stati uniti qua c'è una presentazione non sto entrando nel dettaglio dei singoli però insomma trovate un po di dati dei singoli soggetti sfide dicevo all'inizio le trasformazioni su cui sono chiamate le aziende cosiddetta doppia transizione digitale e verde che chiaramente non è un passaggio di salute richiede anche qui delle competenze faccio un esempio per tutti diciamo allora non so se i vostri clienti ricevono o non hanno ricevuto i questionari Ecovadis non so se sapete cos'è Ecovadis Ecovadis allora in questo momento il mondo diciamo ci sono molte società che fanno i rating diciamo sull'ISG delle aziende non pian piano adesso che stanno approvando a livello europeo i vari standard diciamo in Europa hanno approvato due settimane fa la settimana scorsa diciamo standard europeo che va a doppio binario nel senso che lo standard europeo non è riconosciuto ad esempio degli Stati Uniti cosiddetti GRI che sono internazionali noi abbiamo fatto qualcosa un po più perché siamo più realisti del re diciamo abbiamo fatto un po' qualcosa di nostro europeo in una logica che può avere anche un grande senso per certi versi ma sicuramente non batte quei tempi di come agire l'economia allora Ecovadis è una struttura francese che ha saputo diciamo in tal esempio c'è CRIF che ha creato la certificazione delle filiere se voi andate a cercare su CRIF vi danno oggi dei tool gratuiti che certificano tutta la filiera in cui si trova l'azienda la vostra cliente quant'altro caricata la partita IVA vi dice esattamente con i dati pubblici come viene vista Ecovadis è come dire ha speso in sono francesi hanno speso bene la comunicazione sono un po' imposti come una delle piattaforme leader arrivano i questionari faccio esempio che mi è capitato sei sette mesi fa azienda del vicentino arriva il questionario sport portano gli Stati Uniti gli arriva il questionario Ecovadis lo fa compilare alla segretaria che non spiega neanche di cosa stiamo parlando lo compila manda via dopo un mese chiamata del primo cliente americano che gli dice guarda io devo interrompere la fornitura perché il rating è crollato cioè il tuo rating non è compliant con quello che noi per importare il vostro prodotto dal punto di vista ambientale sostenibilità e quant'altro quindi mi dispiace chiudiamo il rapporto quindi questo ho dovuto cercarsi un consulente rimettere a fare il questionario ricaricarlo riprendere il rating chiaramente ho avuto un buco di qualche mese e andare in America a ripresentare al cliente questo Ducati una cliente di zona Lombardia che ha un stabilimento in Bulgaria producono le bauletti che vanno sulle moto plastica diciamo specializzate la Ducati già piattaforma ognuna delle grandi aziende diciamo fanno hanno le loro piattaforme manda tutti la filiera il questionario la mia cliente carica due anni fa non aveva investito niente in termini in azienda pannelli solari macchine insomma tutto quello che poteva essere riguardo viene fuori che era fuori la chiamano ci dispiace non possiamo più continuare a lavorare con te però siccome la sua fortuna che era un fornitore era abbastanza strategico perché non c'erano altri sono arrivati due dalla Germania gli hanno detto guarda allora adesso facciamo così compri una macchina ibrida prima cosa mi metti giù due pannelli mi fai un piano di investimento per i prossimi due anni che mi fai un passaggio di questo genere e ti riammettiamo dentro fra due anni ci rivediamo questo per dire gli effetti pratici perché questo tocca poi il tacuino o l'ordine quindi l'azienda si trova così se non ha capacità di reagire o altri fornitori è morta questo è quello che sta succedendo nel pratico e pian piano che andiamo avanti ci verrà avanti questo tema quindi queste transizioni sono molto sensibili e andranno a toccare le catene del valore 2029 come vi ho detto andrà in vigore la supply chain hack dove le grandi aziende che già adesso iniziano chiederanno tutta la certificazione che di cosa usi faccio esempio oggi come oggi in germania non si può vendere acciaio da me è un tema abbastanza pesante dico friuli o comunque friuli brescia diciamo non puoi vendere acciaio che abbia più del 65 per cento di carbonio quindi cosa devo fare devo vedere come prodotta l'energia elettrica dei miei fornitori esteri da cui importo molte volte la materia prima che poi trasformo nel 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 forno no e andare a certificarla perché altrimenti in germania non te l'accettano questa norma tecnicamente entra in vigore nel 29 però in germania ce la chiedono già oggi i gruppi sono così quindi sono questi cambiamenti quando parliamo di cambiamento verde non è semplicemente il bilancio di sostenibilità affiancato al bilancio contabile e revisionato c'è anche questo tipo di problematiche pratiche su cui bisogna mettere la testa e chi lo fa dobbiamo essere noi ragazzi che facciamo questo tipo di ragionamento ai nostri clienti e non aspettare semplicemente la scadenza dell'obbligo fra tre anni duemila e ventotto alla finestra dobbiamo fare bilancio di sostenibilità arrivare al bilancio di sostenibilità è un percorso bisogna iniziare adesso lavorarci e arrivarci quant'altro quindi attenzione su questo tema qua transizione ambientale fondamentalmente quello che riguarda i prodotti devo dire che l'Italia in questo senso sicuramente è molto avanti diciamo nel 23 era il settimo paese a livello mondiale per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti a basso contenuto di carbonio con 37 milioni di dollari dopo la Germania che ha fondamentalmente nel Cuba 1200 negli scambi internazionali vedete anche la Cina ha una quota importante in questo in questo senso tema dell'intelligenza artificiale che non sto entrando nel dettaglio ormai credo ne parliamo tutto e per tutto però quattro aree sicuramente andranno a colpire attività coi clienti marketing ingegneria del software ricerca sviluppo vedete ad esempio l'ingegneria del software stanno mandando a casa migliaia di programmatori perché oggi non servono più fondamentalmente perché l'intelligenza artificiale fa meglio delle persone quindi questi passaggi piattaforme digitali export qui riporto un lavoro che stiamo facendo con l'osservatorio sull'ambito digitalizzazione a livello l'osservatorio abbiamo quattro tavole di lavoro outbound quindi accompagnamento digitalizzazione inbound e sud fondamentalmente tema tema ZES accompagnamento eccetera abbiamo fatto una mappatura delle piattaforme digitali dell'export italia quelle che sono il supporto pubblico ce ne sono diverse molte non se ne non si parlano diciamo questo purtroppo siamo un problema sempre strutturale tutto questo verrà messo nel sito dell'ordine nazionale diciamo a informazione dei colleghi per vedere tutti i vari passaggi dove uno va consiglio mio è registrarsi perché se uno è interessato banalmente anche passare delle informazioni proprio clienti su gare su tender quant'altro si trova veramente tantissime cose il ministero degli esteri fa un po' da come dire con export.gov.it fa da assemblatore delle varie proposte opzioni diciamo trovate diciamo le cose sicuramente interessanti metto le piattaforme digitali perché mi aggancio a quello che ha detto prima Francesco il tema della digitale dell'e-commerce della modalità di approccio alla venta digitale per la piccola media impresa è praticamente oggi un sine qua non e non è un qualcosa nel dire ma ci penserò è un piccolo azienda per esportare quello diventa lo strumento sicuramente sono gli strumenti principi su cui però bisogna ragionare perché parlava di amazon ma amazon fa tutto vai a vende negli stati uniti perfetto però sono il 30 per cento di margini quindi se sei in grado di assorbirlo è un prodotto buono bene se no fai fatica quindi ci sono tutta una serie di di dinamiche diciamo da da ragionare l'export del b2c fondamentalmente nel 2022 che l'ultimo dato disponibile 23 ancora non ce l'abbiamo ed era di 18.7 miliardi e questi sono i settori ma il b2b ha cubato 175 miliardi quindi capite bene che parliamo di numeri nel b2b io credo sia il vero treno su questa cosa qua diciamo è pari al 28 per cento dell'export complessivo e su questo tipo di mondo fondamentalmente ci sono delle delle soluzioni nel nostro caso noi abbiamo puntato su due macro soluzioni alibaba e linkedin che sono diciamo alibaba.com è una fiera virtuale non è diciamo le piattaforme in cina la piattaforma globale la più grande al mondo con 47 milioni di buyer attivi durante pandemia ci siamo tutti adattati a trovare delle soluzioni linkedin è l'altra piattaforma che oggi sta oltre a essere la più grande al mondo c'è rispetto ai social facebook eccetera non c'è neanche da discutere c'è a 985 milioni di iscritti nel mondo professionale e dove si sono create adesso delle professioni a seguire qui quindi le aziende individuano il proprio buyer dentro linkedin fanno cercano il manager cercano il buyer di quel in quel mercato lì eccetera eccetera made in italy esempio sul marketplace di alibaba è il secondo per volume di ricerca mondiale e tenete conto che nei primi paesi nei primi 20 paesi la cina non c'è il primo paese sono gli stati uniti a scendere quindi diciamo provate veramente questo è il social selling di linkedin quindi vedete i numeri anche qua importanti stati uniti chiaramente sono avanti e su cui appunto c'è tutto un mondo che lavora qua ci sono un po' i dettagli vedete le quote di fatturato linkedin produce il 62 per cento del fatturato globale contro il 37 di facebook fiere virtuali anche qui tema che si è aperto durante pandemia poi insomma si è un po' spompato ma sicuramente per la piccola impresa se parliamo di costi vi faccio dei costi alibaba fiera virtuale 365 giorni l'anno noi collaboriamo con una struttura di milano che mette a disposizione un temporary digital manager per gestire il canale tra mettere in piedi ti costa 2.500 fino a 5 prodotti 5.000 euro l'anno da 5 30 prodotti la persona che gesti one shot non chiedono provvigioni su quello che si vende eccetera hai la piattaforma aperta 365 giorni l'anno su cui entrano i buyer praticamente tutto il mondo e un temporary manager digitale ti costa dai 500 ai 1100 euro secondo dei servizi diciamo un mese quindi slot medio 15.000 euro l'anno per gestire una fiera che però dura 365 giorni l'anno contro una fiera fisica che è la più banale che ci possa essere meno di 30 40.000 più le persone non ti costa per 5 giorni di lavoro quindi quindi per una piccola impresa sono tematiche in cui bisogna tenere a ragionare e oggi sono strumenti veramente molto molto interessanti bene vai bene va bene per il manifatturiero invece linkedin per i servizi per dire anche all'interno io adesso sono 4 anni che stiamo seguendo con questa società di milano che si chiama webidu stiamo vedendo un po come lavorano nei vari settori ad esempio il vino va meglio su linkedin che su alibaba per dirti cioè sono diciamo non è per tutti e anche tutti i prodotti sicuramente vale per chi ha un prodotto proprio vale anche per tematiche diciamo come dire di terzisti no che forniscono cose particolari però devo dire come ha fatto l'esempio prima francesco nel settore del lusso in tre anni 10 milioni io ho visto un'azienda di abruzzese con un cliente passata da 6 a 12 milioni con conserve di pomodoro ha trovato un cliente pakistano lì in piattaforma un'altra di giù pugliese che vendono olio sono passati da 0 a 3 milioni con margine interessanti nell'arco di due anni sempre serve lavorare strategia insomma tutto quello che ha detto francesco che fa parte del della strutturazione su cui chiaramente penso che noi professionisti siamo in grado di dare le direttive alle aziende allora per tanti versi si dipende sai il tema è esempio uno vuole andare su un mercato americano non vuole avere fda non vuole avere problematiche di trasporto logistica eccetera eccetera al margine che glielo permette cioè ad amazon tu lasci del 25 30 per cento no che però ti fa tutto il service quindi fare ti tuo budget il tuo conteggio cosa vuol dire però sono in quei casi lì ti toglie tanto un mal di testa altrimenti devi cercarti il logistico chi ti fa l'fda che la certificazione appunto doganale americana cioè devi fare tutto quel percorso lì che richiede investimenti quindi alla fine uno dice faccio vuoto per pieno amazon mi può andar bene rischio vero che ho visto nel tempo con amazon che amazon con i suoi algoritmi quando vede che tu sei troppo bravo o sei troppo performante poi introduce va a produrre per conto suo o trova qualcun altro che produce per portarsi a casa un margine maggiore quello un po il rischio che è lì io ho finito domande vai non è mai banale abbiamo tempo abbiamo guarda siamo giusti parla qua perché per chi registra o vieni qui che così perfetti sentono dicevo noi siamo una eh la figura professionale trasversale che eh praticamente va bene quasi con tutto in questo caso eh siamo quelli che hanno competenze di base poi possono con questo andare a studiare quelle eh degli altri paesi abbiamo la possibilità di ragionare e vedere una panoramica fare due 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 conti insomma dare i migliori consigli ci sono le le criticità ossia abbiamo la competenza per individuarle tra queste quella che mi ha colpito e penso abbia colpito tutti però diciamo vabbè proprio così perché lo è un una criticità anche in Italia è la burocrazia ora mi stavo domandando no con le competenze noi voi che siete più bravi eh con le competenze che abbiamo e guardando all'estero dove fanno magari meglio magari superano determinati problemi non stanno a perdere troppo tempo saremmo in grado di stilare un elenco di suggerimenti parlo come professionisti eh proprio anche come consigli di suggerimenti da dare alla al al pubblico eh al settore pubblico per aiutare perché io ne sento sempre parlare ho sentito una discussione tra famoso Briatore e Corona dove dice guarda una cosa su cui ti do ragione è proprio il dissocio della burocrazia non a te io faccio uno consigliere del LUNCEN che è l'unione dei comuni e ehm dei comuni e delle comunità montane stiamo cercando di dare una mano al piccolo commercio a taglia quasi persa nei piccoli centri montani ma quello che ti blocca è sempre il costo della burocrazia allora la domanda è esiste mh la possibilità ripeto domanda banale ma la risposta no 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 non è no allora non è assolutamente banale qua credo forse eh collega parente l'amico parente si è più titolato allora noi soffriamo un tema io lo dico con lui ne abbiamo discusso proprio quando è nata Aicek soffriamo un tema strutturale che è quello ordinistico ok parlo piatto eh quindi scusatemi dopo chi può essere d'accordo o meno ruolo del professionista però l'ordinistico cosa porta porta che tu hai un circuito hai le elezioni nazionali le elezioni di territorio arrivano quelli che hanno la buona volontà perché voglio dire fai dell'attività veramente da 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 come dire pro bono molte volte anche se magari hai qualche rimborso ma sicuramente non ti copre il investimento del tempo della testa che ci metti eccetera e eh fondamentalmente con questo ciclo che tu hai un po' come i nostri governi che sono a breve termine quindi non ha nessuno riesce a pianificare no perché il tema della burocrazia è un tema in cui devi ragionare nel medio lungo non puoi ragionare nell'arco di due anni tre anni nella vita quindi noi soffriamo già strutturalmente questo io devo dire che il lavoro che sta facendo il banno denuncio diciamo in questa fase è stato proprio io parlo ad esempio il caso dell'osservatorio ma proprio del dipartimento internazionalizzazione è stato quello di dire andiamo a mettere avere un collegamento costante con le istituzioni per fare questo travaso di competenze di fatti a livello se guardate anche a livello di normativa c'è oggi un'attività fatta dal consiglio nazionale dentro diciamo i ministeri diretta cosa che prima purtroppo per n motivi lui lo sa bene meglio di me diciamo che ha vissuto sul consiglio nazionale magari ti trovi il collega di roma bravissimo eccetera eccetera che ha il rapporto con quel sottosegretario dicendo in quel momento sparisce il sottosegretario è finito il collegamento quindi non hai più quella continuità e non sei riconosciuto sui tavoli e come dire a livello di di organismi internazionali di contabilità no cioè voglio dire lì vai a vedere chi è presente tutte le big four no dopo ti chiedi perché ti fanno ti mettono giù la revisione modello americano anche per l'azienda da da cento milioni 50 milioni 50 un milione di fatturato scusate mi stavo mi stavo segando da solo no cioè capisci allora voglio dire vuol dire che tu non hai una rappresentatività non riesci a strutturare una rappresentatività forte in quello quindi in queste cose la bacchetta magica non esiste sicuramente il tema vero è che noi dobbiamo avere parlo nell'angolo nostro che ognuno guarda il suo tu vedi esempio il mondo di confindustria ha una struttura dei dirigenti che portano avanti un tema che poi politicamente devi essere come dire allineato il governo di turno è un altro paio di maniche però fondamentalmente hai gente che segue delle linee è lì presente porta le leggi sta dietro credo che questo sia un po la sfida che sta cercando di fare oggi l'ordine diciamo nazionale proprio di diventare degli interlocutori attivi diretti non semplicemente per la relazione che ha in quel momento sbaglio giovanni perché questo è un tema guarda ne abbiamo parlato anche sul tema internazionalizzazione e devo dire che questo meccanico tutti i tavoli di interlocuzione che sono stati attivati a livello di ordine nazionale vedono la presenza professionisti e istituzioni noi ad esempio abbiamo l'osservatorio abbiamo sul tavolo sime sacce finest ministeri e banche e ci credono perché ci vedono comunque quella cinghia di trasmissione che avevamo usato quel termine dieci anni fa no con il territorio con le piccole imprese cosa che oggi il sistema pubblico non riesce ad avere quindi noi abbiamo una forza che sottovalutiamo problema ripeto siamo purtroppo ancora vincolati alla al fiscale alle scadenze eccetera e lì no devi farle però vuol dire però che il ragionamento dell'aggregazione ti porta a dire faccio sì questo però contestualmente investo mi metto in cinque lì dico che è quello che vuol fare fallimentare tu fai fallimentare basta non vai a fare altro internazionale fai quello investi sui giovani sui professionisti quindi l'aggregazione tipo io sono nato ho creato uno studio nel 95 siamo partiti in 12 siamo arrivati 70 persone io la mia struttura all'estero ho potuto crearla perché dietro la schiena aveva una struttura oggi va da sé però negli anni in cui ero lì a correre in giro per il mondo a mettere in piedi gli uffici trovare clienti eccetera se non avessi avuto a caso una struttura che mi pagava lo stipendio zero cioè bisogna essere pratico su questo l'aggregazione serve a quello poi hai tanto oggi le formule sono tante però oggi come oggi per andare a investire è inutile che io mi metto a fare il tutologo è impossibile avete visto diciamo dal 90 io sono entrato nel 90 e scritto 91 a oggi cioè come sono cambiate le norme le cose che vengono richieste eccetera è impossibile per una persona perché se non lo dovresti studiare diciotto no la relazione esatto sai con chi parlare sai fare cioè no delle specializzazioni delle cose di creare relazioni però sono investimenti no cioè sai che queste robe qua non è che le fai dalla mattina alla sera è una strategia è come un'azienda né più né meno cioè poi che si chiami studio di professionisti ma è sempre un'azienda perché oggi non puoi devi avere un tuo progetto come investi e quindi capito cosa vuoi dirti cioè secondo me il modo c'è però bisogna essere metodici e essere come dire avevi idea chiara dell'obiettivo perché altrimenti rischiamo di fare come dire gli allenatori della nazionale andiamo al bar e poi siamo tutti bravi italiani sono tutti così no però poi alla fine la verità è che devi avere gente che sa cioè se tu mi dici fallimentare io non sono una mazza vado da chi è bravo a far quello punto ma la mia conformazione mentale è quella capito c'è ragione medico generico specialista io faccio il medico generico per 50 cose perché l'unica cosa che noi ci rimane è la come dire la fiducia del cliente quindi che sia grande piccolo cliente viene da te anche se non sai una mazza dell'argomento però sa che tu se sei bravo lo accompagni dallo specialista come fa il medico di base e tu apprezzi il medico che ti dice vai là a risolvere che ti risolve il problema questo buono l'altro all'amico Maurizio grazie a te grazie grazie mille Roberto ogni volta che vieni a Torino ci apri dei mondi il terzo fuoriclasse della giornata è Maurizio Tomalino sto termine fuoriclasse mi crea già un po' di soggezione allora buonasera a sto punto io gioco in casa quindi con l'amico Barabino insomma abbiamo insomma cercato di mettere insieme questo questo corso che ha effettivamente questa finalità di andare a porre alla nostra professione un aspetto importante che è quello che riguarda un po' tutte le imprese l'abbiamo sentito eh cioè l'internazionalizzazione che può essere a vari livelli come è stato detto quindi i colleghi eh Francesco e Roberto hanno delineato che cosa secondo me in primo luogo la complessità eh dell'internazionalizzazione perché effettivamente noi ci troviamo un mondo nel vero senso della parola ma con tante variabili che entrano in gioco e quindi dobbiamo essere capaci a mettere in fila un po' il tutto in maniera da permettere alle aziende e quindi riferisco quindi alla platea delle aziende clienti di muoversi in un modo diciamo che eh porti dei risultati che sono quelli che contano adesso eh vado nella mia presentazione chiedo scusa un attimo perché faccio che aprire il file ok allora io eh tratterò del temporary export manager che è diciamo una figura che oggi diciamo ha preso piede anche grazie a alcuni finanziamenti che ci sono stati voucher eccetera no di aiutare soprattutto il contesto come vedremo delle piccole e medie imprese ad essere sostenuti nei processi di internazionalizzazione soprattutto per quanto riguarda quella prima fase che interessa un po' tutti cioè l'expo cioè aumentare il fatturato perché poi eh il primo diciamo presupposto per un'azienda per crescere è aumentare i volumi certo anche con dei margini che ovviamente però e quindi cercare nuovi mercati dove ovviamente far entrare i propri prodotti o servizi quindi la figura dell'expo del temporary export manager è sicuramente quella che ha di uno che ha un'esperienza eh sui mercati internazionali ma anche è una figura che deve avere a mente quindi sapere tenere presente tutta la complessità che come dicevamo come abbiamo sentito prima caratterizza eh caratterizza i mercati internazionali Roberto prima ci ha fatto una bellissima disamina del panorama di come stanno andando anche i trend no rispetto a alle alle esportazioni alla presenza del del made in Italy l'importanza la relatività dei numeri quelle che sono le aree che contano e insomma è un mondo dove bisogna cercare di capire come muoversi perché perché se si sbaglia più che altro si rischia di eh buttare via del tempo e buttare via delle risorse perché anche l'esportazione implica un processo diciamo di investimento in una certa direzione quindi se io devo andare in un certo mercato perché lo ritengo eh diciamo potenzialmente favorevole rispetto a quello che io azienda produco e voglio sviluppare in quel mercato certamente devo considerare un minimo budget per fare questa cosa e quindi non devo sbagliare ecco perché come vedremo è importante in una prima fase capire bene come intanto come si è strutturati e poi eh diciamo orientandosi nel mondo in base alle potenzialità dei vari mercati dove cercare di andare quindi il tema è questa figura in che ambito opera ovviamente eh sono tutti i processi di internazionalizzazione che abbiamo sentito da Francesco sono effettivamente vari step no? Quindi il primo diciamo l'inizio è quello come dicevamo dell'esportazione quindi cercare nuovi sbuocchi commerciali ma può arrivare fino all'investimento diretto che è quando appunto un'azienda ritiene che per sviluppare proprio eh mercato in quel determinato paese è necessaria addirittura una produzione locale e quindi diciamo necessita di un investimento complessivo strutturato dove si prende in considerazione un po' tutto quanto. Il tema generalmente come dicevo prima è il tempo esport manager opera soprattutto nella prima fase e ehm come dicevo la complessità dei mercati la complessità delle tematiche che caratterizzano i processi di di esportazione sono talmente tanti che il tema anche se è una figura che ha esperienza come si diceva anche prima eh deve cercare di eh tenere a riferimento chi può essere specialista di una determinata attività di una determinata eh per esempio presenza in un mercato quindi ehm la conoscenza in primis di chi può essere utile a svolgere determinate attività è fondamentale. Prima dicevamo istituzionalmente sappiamo che abbiamo simest e sace per tutta la parte che riguarda a il sostegno finanziario alle operazioni di export ma poi abbiamo istituzioni come eh ITA, EXICE oppure il mondo camerale in alcuni casi dove insomma e soprattutto anche diciamo eh le ambasciate eh con gli uffici commerciali che possono essere anche dei riferimenti a cui rivolgersi eventualmente per ottenere informazioni ma poi possiamo andare avanti perché per esempio alcuni prodotti necessitano magari di una certificazione specifica per entrare in determinato mercato quindi dobbiamo trovare chi sia in grado di fornire quella certificazione perché altrimenti non potremmo comunque vendere il prodotto in quel mercato. Ecco che la conoscenza di come si articola tutto quanto e soprattutto di chi può essere utile far intervenire come diceva anche il Presidente le relazioni che si hanno aiutano e favoriscono questo tipo di attività e qui mh dico ciò che vuoi anche concludere anche il commercialista che magari non è un tempo perché non ha magari tutta questa esperienza ma sicuramente se ha la conoscenza di chi può essere diciamo il referente per determinate eh per determinati bisogni, determinate esigenze può rientrare l'azienda cliente a dire ok sentiamo chi è esperto che so chi è quindi te lo posso dire e li vediamo come risolvere il problema. Qui eh il tempo come dicevo all'inizio è una figura che si rivolge prevalentemente alle piccole e medie imprese ma come diceva Roberto nel suo intervento all'inizio si tratta soprattutto molto spesso di micro imprese no? Quindi dove il ruolo fondamentale lo fa l'imprenditore che spesso ricopre diversi ruoli noi pensiamo un organigrama in realtà sappiamo che spesso l'organigrama è molto limitato ma eh soprattutto diciamo il tempo che export manager non va nella grande impresa perché di solito la grande impresa paga un export manager quindi pretende giustamente che l'export manager sia lui che risolva i problemi no? Che decidenza uno che venga lì apposta. E temporary perché eh l'intervento del temporary export manager non è continuativo cioè è un intervento che viene organizzato ovviamente eh si ci si mette d'accordo ma soprattutto in base al bisogno e quindi eh è diciamo effettuato con una temporalità che viene concordata. Eh è ovvio che eh qui quando parliamo di piccole e medie imprese in primis devono essere piccole medie imprese che abbiano comunque delle potenzialità di mercato perché mh spesso ci si trova anche di fronte delle situazioni in cui eh il troppo piccolo veramente non consente di pensare di andare all'estero. Oggettivamente adesso al di là della non conoscenza della lingua come diceva giustamente Francesco di molti che eh ci troviamo a a a dover ehm come dire eh avere l'ABC dell'esportazione per cui non so il sito scritto in lingua inglese no? Però ecco proprio a livello magari anche di prodotto molte volte effettivamente diventa difficile pensare di andare a eh diciamo innescare un processo di esportazione. Le capacità produttive ed organizzative quindi la struttura, quello di come siamo organizzati perché per esportare poi subentrano come sappiamo nuove diciamo eh criticità da risolvere da affrontare quindi bisogna vedere se l'azienda anche è in grado di poterlo fare e poi come dicevo all'inizio bisogna partire da un budget perché comunque anche piccolo che sia eh bisogna pensare di spendere qualche cosa quindi l'azienda deve eh dire ok faccio l'export ma lo faccio in funzione appunto di un budget minimo che metto a disposizione. Quindi ehm come opera il TEM? Allora normalmente eh periodo minimo vabbè ci sono dei casi di sei mesi ma diciamo che abbia una ragionevolezza si parte dai dodici mesi eh si può arrivare due tre anni diciamo dai dodici diciotto mesi un periodo per arrivare a dei risultati non non certo di meno poi dipende ovviamente da determinate situazioni specifiche ehm chiaramente eh il TEM come vedremo adotta un approccio metodologico cioè mh bisogna evitare eh il caos perché mh noi ci rivolgiamo a piccole imprese no micro imprese ehm le nostre esperienze penso anche quella dei colleghi è che molti si basano sul sentito dire magari mh hanno visto qualcuno che va là e allora dicono ah sì andiamo anche noi esportare eccetera ecco tutto ciò bisogna renderlo un po' più razionale pragmatico e quindi ci vuole un po' di metodo bisogna appunto passare come come vedremo attraverso delle fasi no per procedere e quindi il compito del TEM è razionalizzare il tutto in modo tale che noi poi possiamo controllare il processo perché se lo facciamo a caso ovviamente non siamo in grado poi di monitorare e di capire se i risultati ci sono o non ci sono ma soprattutto se sono adeguati rispetto alle aspettative iniziali il TEM può essere visto come adesso va abbastanza anche di di tendenza il coaching no quindi come un business coach cioè uno che traghetta praticamente da una situazione A non so quota export 5% a una situazione B quota export 10% attraverso appunto un confronto con con l'azienda con la piccola azienda molto spesso con l'imprenditore per fare che cosa per fargli mettere in atto ciò che serve perché questa figura non è che lui da solo va a fare tutte le azioni necessarie è la figura che cerca di capire cosa è necessario e poi fa in modo che l'azienda metta in atto e controlla poi l'efficacia e la condivide con l'imprenditore quindi è un processo che parte da una situazione iniziale come vedremo in ambito di un check up che si fa e poi la si misura dopo un toro di tempo in base a quello che si è previsto in questo modo ripeto si razionalizza il tutto si capisce effettivamente se lo sforzo sta dando risultati e si va a vedere magari quelli che sono i punti deboli che caratterizzano questo processo e quindi le azioni correttive che si devono innescare ovviamente come dicevo già prima si avvale di competenze tecniche strumenti relazioni dirette indirette tutto quello che può servire non solo internamente all'azienda cliente che con cui lavora ma soprattutto all'esterno cercando di prendere il meglio che possa esserci per riuscire a risolvere questioni specifiche l'approccio operativo allora come vi dicevo metodologicamente io qui ho definito in cinque passaggi diciamo quelli che possono essere le fasi principali appunto del dell'approccio all'inizio si parte con un check up cioè analizziamo qual è lo stato dell'arte di questa azienda capiamo come questa azienda possiamo poi vedere un esempio di check up ma sostanzialmente dobbiamo fotografare l'azienda con tutte le sue caratteristiche quindi ovviamente il prodotto o servizio che sarà da vendere ma anche quello che sta facendo adesso come lo sta vendendo a chi lo sta vendendo quali sono i concorrenti quali canali di distribuzione adotta il livello di digitalizzazione presente la promozione eccetera eccetera da lì si va a vedere di fare un'analisi di mercato ci si appoggia a chi fa le analisi di mercato bisogna vedere e capire però certamente si deve anche capire innanzitutto su quali mercati orientarsi come vedremo spesso usata diciamo in maniera un po' più empirica la tecnica del benchmarking cioè il confronto con i competitors diretti che io conosco so che il mio competitor sta andando in quella direzione posso vedere se effettivamente in quella direzione ci può essere spazio anche per me però ci possono essere altre ovviamente modalità per affrontare un'analisi che ci dia che cosa che ci dia conferma che se ci muoviamo in quel mercato l'abbiamo fatto in maniera consapevole razionale e non mossi da un istinto e funziona se ho condiviso sulla piattaforma un aspetto perché io sono partito da qua bravo andiamo avanti da qua non possiamo tornare indietro ok presentazione presentazione grazie molto attento effettivamente e vabbè comunque le slide lo dico per chi ha seguito a questo punto registrato o comunque online le slide saranno a disposizione quindi dicevo quindi le fasi l'analisi quindi dei principali mercati da seconda fase a quel punto c'è una definizione di un piano no per cui una volta che abbiamo capito quali possono essere i mercati potenziali il mercato dove muovere i primi passi oppure dove sviluppare maggiormente rispetto a una situazione che abbiamo già creiamo una strategia quindi creiamo una roadmap dove mettiamo in fila ciò che dobbiamo fare e questo come vi dicevo il ruolo del temporary export manager è proprio quello di mettere in atto delle azioni che l'azienda svolge volta per volta poi ovviamente quando il temporary export manager rivà in azienda oppure verifica e via via ci si aggiorna portando avanti quindi questo questo piano che si è ovviamente condiviso e si è deciso di mettere in atto alla fine quindi dopo lo sviluppo delle attività ovviamente anche lì ci proponiamo di misurare ciò che abbiamo fatto per cui capiremo se effettivamente stiamo parlando di export quindi stiamo parlando di fatturato se siamo riusciti a sviluppare un determinato fatturato e quindi stiamo rispettando le previsioni di quello che c'eravamo dentro. Ora rivedendo di nuovo un attimo i passaggi il check up quindi ha questo compito di andare a capire molto spesso i punti critici che ha l'azienda perché per esempio gli ambiti su cui si lavora nell'internazionalizzazione sono diversi ovviamente stiamo parlando di mercato quindi c'è una parte di commerciale di vendita no? Accanto c'è quella del marketing, la promozione ma poi c'è la logistica perché quando si parla di vendita a mercati esteri magari la logistica che abbiamo per fornire il mercato nazionale non può essere la stessa quindi abbiamo bisogno di capire a chi rivolgersi per effettuare diciamo il trasporto delle nostre merci. Il discorso degli incassi quindi la parte finanziaria strumenti come lettere di credito e quant'altro dobbiamo capire come se metterle in atto. Il discorso diciamo più in generale anche da un punto di vista sia contrattuale che fiscale che implica ovviamente delle situazioni diverse. Quindi la prima fase in questa analisi di check up è capire in tutte queste situazioni se l'azienda è organizzata oppure ha bisogno di mettere a punto ciò che manca, ciò che non è effettivamente ancora presente. Quindi il punto di partenza serve per sicuramente andare a capire com'è la situazione e da lì costruire ciò che serve per andare nel mercato, nei mercati che si è attraverso all'indagine ritenuti potenzialmente mercati dove l'azienda possa ricitare un ruolo e quindi avere delle possibilità di esportare. Qua abbiamo appunto come vi dicevo la costruzione di una strategia, la costruzione di una strategia ma soprattutto la costruzione, io chiamo roadmap, cioè di identificare nel periodo che riteniamo congo per realizzare il tutto, vedere di fare fase per fase un pezzo perché ovviamente la piccola struttura non è in grado di affrontare tutto insieme, quindi noi dobbiamo distinguere, mettere in atto le priorità e capire dove muoverci. Chiaramente ad esempio da un punto di vista commerciale noi dovremo in primis capire come trovare i clienti, i buyers e poi i buyers chi sono? sono dei diretti oppure saranno indiretti, poi a loro volta saranno articolati, cioè a seconda del prodotto cambiano le situazioni. Il marketing ha tutto un discorso che parte banalmente dal sito in lingua inglese almeno ma poi può arrivare anche alla realizzazione di campagne social però considerando che in quel mercato non è che funziona il social che funziona da noi per cui bisogna anche lì entrare poi nel merito di ciascuna situazione. Stessa cosa dicevamo prima la logistica, se abbiamo dei prodotti che ovviamente c'è la catena del freddo e quindi lì siamo estremamente compliciati, ma possono essere anche prodotti meno complessi da trasportare però abbiamo, sappiamo, delle aziende di logistica quindi di trasportare che sono magari specializzate in determinate aree mercato, altri sono specializzate quindi bisogna anche capire chi ci conviene avere come interlocutore in base a proprio queste specializzazioni che differenziano i possibili interlocutori e la banca può essere indubbiamente utile per tutti gli aspetti che riguardano soprattutto la parte degli incassi e così via e poi il discorso fiscale chiaramente noi come commercialisti diciamo prima partiamo con una certa tradizione in questo ambito quindi però molto spesso ci può capitare anche che c'è bisogno anche della peculiarità per cui da risolvere per cui magari ci serve qualcuno anche in questo caso che possa magari aiutarci su alcuni aspetti ripeto magari peculiari e quindi dobbiamo anche lì avere qualcuno che ci possa aiutare quindi in tutto ciò ripeto noi andiamo a definire in base alle priorità che cosa fare prima che cosa fare dopo e via via controllare che venga fatto quindi il temporary manager va in azienda dice ok avevamo questo 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 cosa siamo riusciti a fare ok vediamo ok andiamo avanti e nel mentre c'è un monitoraggio del tutto per cui questo eh approccio consente appunto come vediamo di tenere sotto controllo lo sviluppo eh delle attività ripeto è molto importante avere eh per quanto mio oggi la complessità che eh capiamo esserci eh i riferimenti giusti al momento giusto perché ogni mercato poi ha all'interno a quelli che operano in quel mercato quindi oggi per esempio eh si parla di mercato cinese perché attira perché sappiamo le potenziali anche se anche lì negli ultimi mesi ci sono stati come diceva Roberto eh licenziamenti quindi c'è una certa recessione eccetera però insomma viene visto un mercato interessantissimo il problema è che è un mercato che è interessante per tutto il mondo per cui tutti si rivolgono a questo mercato quindi è molto più difficile certe volte competere i mercati dove c'è un grande appeal rispetto ad altri dove magari non ci sono tanti che si rivolgono però è più facile avere degli interlocutori ma stessa cosa Stati Uniti questo da tempo no Stati Uniti è bellissimo mercato però questi i buyer degli Stati Uniti ogni giorno ricevono decine e decine di email no dove gli si chiede quindi è difficile avere l'attenzione ecco perché è importante in le situazioni specifiche anche fare questi ragionamenti e soprattutto farli come dicevo prima a monte cioè prima di iniziare a buttare via dei soldi dico buttare via dei soldi poi uno se fa un viaggio in Cina fa comunque un'esperienza però voglio dire l'azienda interessa poi avere il risultato e quindi insomma al di là dell'esperienza interessa l'efficacia di una determinata azione per esempio il discorso delle fiere come diceva anche Roberto effettivamente sono degli investimenti e vanno gestite come tali perché oggi le fiere costano quindi adesso il discorso di poter fare le fiere diciamo permanenti digitali è sicuramente una cosa interessante molto spesso sappiamo che eh siamo esseri umani certe volte ci dobbiamo incontrare stringere la mano per effettivamente riuscire veramente a concludere quindi tutto sommato vediamo che le fiere continuano esserci ed avere anche un certo rilievo per quello che riguarda il discorso dell'internazionalizzazione io per tantissimi anni mi sono occupato di consorzi export quindi ho fatto tantissime fiere in giro per il mondo e ehm e devo dire che in effetti oltre ad essere un'esperienza dà la possibilità effettivamente di interloquire conoscere e molto spesso anche se non si conclude diciamo non si porta a casa il business però si capiscono tante cose anche dove migliorare quindi l'esperienza di fiera può senz'altro essere interessante però di nuovo è un costo quindi dobbiamo metterci in testa che eh dobbiamo indubbiamente portare a casa qualcosa perché se no eh ce lo troviamo come costo e basta ovviamente ci sono adesso sempre di meno eh ahimè degli aiuti per le fiere ma certamente ehm bisogna stare attenti poi a seconda delle regioni no ci sono oggi è molto localizzato no il sistema di aiuti a a a coi voucher alle fiere piuttosto che a determinare però certamente eh quello che può aiutare va preso in considerazione e va sfruttato per quello che possa essere appunto l'utilità di fare quella determinata attività come la fiera e anche ultima cosa sulla fiera perché comunque è arrivare preparati cioè quando eh un'azienda si presenta in fiera indubbiamente eh deve avere ciò che serve a presentarsi deve essere magari già pronta a capire chi possono essere gli interlocutori e soprattutto magari se è riuscita magari già invitarne qualcuno a a a degli appuntamenti magari facendosi aiutare da qualche struttura locale o comunque da chi si occupa di questo proprio perché eh spesso non è detto che riesca a a ad avere diciamo l'occasione di incontrare quelli giusti per il mio prodotto. Le fiere oggi sono molto settorializzate però ovviamente all'interno di settori ci sono tante specificità e quindi non è detto di avere la fortuna di incontrare l'interlocutore e quindi per non basarsi sulla fortuna anche quello è meglio di organizzarlo programmarlo e metterlo in atto. Ehm quindi vabbè il monitoraggio è un monitoraggio cioè il controllo di quello che stiamo facendo serve anche come dicevo prima per mettere in atto delle misure correttive e vedere se ehm c'è bisogno per dire di fare un po' più di promozione in un certo modo perché oppure di mh contattare qualcun altro insomma è chiaro che noi eh attraverso la misurazione dei risultati possiamo pensare fare dei ragionamenti e mettere in atto delle azioni. La eh il ruolo del commercialista. Allora ritorno un po' al discorso iniziale. Il ruolo del commercialista ovviamente il commercialista non è detto che abbia tutta l'esperienza per però se il commercialista si sa almeno orientare come dicevo prima su chi possono essere gli interlocutori che possono fare al caso della propria azienda cliente è importante perché come si diceva prima sappiamo che noi un po' come il medico no? Quello che l'esempio che ha fatto Roberto del medico generico medico di base no? Eh uno si rivolge al medico di base e poi il medico di base dirà eh dove andare a seconda di che cose c'è bisogno no? E noi siamo un po' così come figura generico del commercialista e dobbiamo interpretare bene questo ruolo quindi se noi conosciamo un po' gli aspetti dell'internazionalizzazione come sono da un punto di vista della complessità ma soprattutto di un approccio eh come affrontarli ecco come mettere in atto per quello che dicevo è molto importante razionalizzare ciò che si affronta quindi accompagnando la propria azienda a svilupparsi in questi mercati internazionali ecco con questo approccio se si conoscono anche quelli che sono i possibili interlocutori o si sa dove orientarsi per conoscerli che non è che possiamo conoscere tutti gli interlocutori di tutto il mondo però magari so che mi rivolgo a all'associazione la quale saprà dirmi effettivamente che in quel paese conosciamo l'interlocutore giusto per fare che so un contratto piuttosto che andare a realizzare un investimento ma anche solo firmare un semplice diciamo accordo con un distributore quindi voglio dire è questo secondo me l'importanza in primis di una figura come quella del commercialista che è il fiduciario dell'azienda cioè quella persona a cui ci si rivolge per dire mi piacerebbe ma non riesco come posso farmi aiuti eccetera eccetera la risposta avviene in questo modo se noi siamo un minimo preparati ripeto non nello specifico ma almeno nel sapersi orientare quindi ovviamente si diceva prima il commercialista già di suo poi in grado tutte le questioni legate non solo alla fiscalità ma anche la contrattualistica ma anche proprio diciamo a che so al margine un problema nel delle vendite all'estero è il moltiplicatore no? Cioè quanto facciamo perché consideriamo che io devo pagare il trasporto oppure non pago il trasporto a seconda di Intrutex però c'è allora l'importatore deve guadagnare tanto poi a sua volta c'è una ragione e devo capire quali sono i moltiplicatori ma allora questa cosa il commercialista può aiutare effettivamente l'azienda fanno sempre di piccole aziende a capire se quel moltiplicatore sta in piedi se ci guadagna quanto ci guadagna eccetera quindi è un ruolo che esercita per professione già naturale insomma abbastanza facile come dire alle basi senz'altro per cui mi è piaciuto moltissimo torno a dire l'esempio che ha fatto Roberto Corciullo per quanto riguarda la figura del medico di base ecco noi in questa fase medico di base ma che sappiamo e quindi diamo aiuto efficace al nostro cliente questo è un po' ecco diciamo il racconto della figura del tema e il discorso di come appunto possa interfacciarsi col commercialista ovviamente le fasi di internazionalizzazione che vanno oltre quindi non è uno può iniziare di solito si inizia con l'expo poi ovviamente magari in un determinato mercato si richiede la presenza ad esempio di un magazzino per la logistica oppure di un ufficio di rappresentanza per curare i rapporti con quelli che sono gli interlocutori fino a dover magari appunto realizzare un impianto produttivo nel passato io come i colleghi abbiamo avuto senza esperienza perché c'era un periodo in cui andavano di moda le joint venture no per cui è solo per fare una piccola parentesi su questo quando si fa un investimento all'estero la logica diceva sempre facciamolo con un uno locale perché quello conosce alle entrature sul mercato giusto perfetto il problema è che molto spesso la mentalità del piccolo imprenditore italiano fa fatica perché spesso cosa succede che nel momento in cui si veste bisogna pensare se si è strutturati poi per gestire l'investimento ma se l'approccio dell'imprenditore è molto personalizzato non è manageriale poi si fa fatica a seguire quello che è una nuova realtà mi capita ai tempi no che magari si sviluppava la nuova realtà ma andava in criticità quella che era in italia per cui per cui bisogna fare queste valutazioni cioè c'ho le risorse o le risorse giuste per realizzare questo tipo di operazione al di là degli interlocutori e poi bisogna vedere se il fatto di forzare a farla joint venture non sia meglio farlo diretto questa è una valutazione ovviamente che va vista anche in relazione ai mercati perché ci sono mercati dove addirittura in alcuni casi non è possibile fare delle operazioni se non attraverso questa modalità però è solo per dire che quell'aspetto lì va di nuovo ulteriormente esaminato ma facendo soprattutto un ragionamento pragmatico di nuovo cioè non mi muovo dall'istinto di fare una bella cosa e dire che un'azienda all'estero ma mi muovo per delle vere esigenze che mi portino a fare un qualche cosa che duri nel tempo ed abbia successo io non so se c'è domande se ci sono domande se più o meno siamo nei tempi bene grazie anche a maurizio prima che vi alziate bene andiate vi segnalo il prossimo incontro giovedì prossimo 19 settembre sempre quale 3 coordinato dal professor mario grandinetti sui principali aspetti societari e tributari dell'internazionalizzazione entriamo cominciamo a entrare in alcune particolarità della nostra consulenza sulle tipologie di investimenti esteri la scelta tra società e branch la gestione del credito per imposte estere e poi avremo un case history un caso concreto del direttore della fiscalità internazionale della lavazza grazie a tutti grazie ancora ai relatori e alla prossima volta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti